soppressione dell'autobus linea 700 e 712. Invito la consigliera ad illustrarla. Per cortesia, un attimo che abbiamo iniziato, grazie. Allora, buonasera. Le interrogazioni sono state due, quindi preferirei affrontare prima una e poi l'altra, non tutte assieme. Per quanto riguarda la prima, che era la 700, faccio una premessa. Il sistema di trasporto locale entrato in vigore nel marzo 2012 ha causato notevoli disagi alla cittadinanza. In primis, i cittadini lamentavano il mancato preavviso dei cambiamenti al nuovo servizio ed il mancato coinvolgimento alla stesura del nuovo piano di trasporto. Molti cittadini ci hanno contattato e, a dimostrazione del disagio arrecato, abbiamo raccolto più di 1.000, 1.200, mi sembra, firme di persone che chiedevano di riprestinare il servizio precedente. Sappiamo che c'è stato un tavolo di lavoro, ma è da un anno che sono aperte delle istanze e i cittadini ci chiedono ancora delle risposte. In particolare, l'autobus 700 offriva un servizio indispensabile per gli abitanti della zona. Potevano raggiungere il comune o l'ospedale di Sesto nel giro di 15-20 minuti. Ora il tempo necessario è diventato dai 40 ai 60 minuti, senza contare le difficoltà per molte persone anziane di raggiungere a piedi il mezzo pubblico più vicino. I disagi arrecati sono evidenti e quindi i cittadini chiedevano, e noi per loro, di capire, di comprendere il motivo che ha portato a lasciare i cittadini nella zona di Viale Rimbe in Branza e Fratelli di Dio senza il passaggio di un mezzo pubblico che colleghi velocemente al centro e sapere se era in pentimento dell'amministrazione e ripristinare il servizio della linea. Con che tempi e modi? Grazie. Risponde l'assessore Marini. Prego, assessore. Circa il primo punto, la questione del preavviso. Lo scarso preavviso con cui è stata avvisata, scusate il gioco di parole, la cittadinanza riguardo alle modifiche del trasporto pubblico locale entrate in funzione a marzo del 2013 è dovuto principalmente al continuo slittamento del medesimo, che doveva entrare in funzione prima a settembre, poi se non era a novembre e poi alla fine se è concretizzato in marzo. Questo dipende dalla politica del gestore che è ATM. Circa il non coinvolgimento della cittadinanza posso solo precisare o condividere che la modifica entrata in funzione nel marzo 2013 è l'esito di un processo che è durato 4 anni, iniziato nel 2009 se non erro, che peraltro ho visto anche alcuni incontri pubblici, ne ne risultano due, con i rappresentanti delle zone che però evidentemente si sono persi nel tempo lungo della gestazione di questo processo, che certamente si potrebbe richiedere sia più veloce, ma bisogna dare atto che riguarda tutti i comuni, ex CTP e non solo, e ha una difficoltà e un'oggettiva complicazione nella sua gestione. Rispetto a 4 anni, che è quello che è stato l'esito e la gestazione delle modifiche entrate in funzione a marzo, devo dire che il tempo, a mio giudizio, comunque lungo degli aggiustamenti in corso, è decisamente più ridotto. Per quanto riguarda invece l'autobus 700, a parte la questione che così in generale in assoluto risulta difficile rispondere in questo modo. Certo, ci sono delle zone che sono meno coperte, altre più coperte, ricordo che però quasi tutta la città, praticamente tutta la città di Sesto San Giovanni ha almeno una fermata a 250 metri. Devo dire che a posteriori le difficoltà, certe volte anche notevole, sulle quali abbiamo con il tavolo di lavoro cercato di porre rimedio per quanto possibile, come è preciso nella risposta all'interrogazione, si registra un aumento abbastanza considerevole, forse ancora da incrementare, della utenza nell'ora di punta, da questo punto di vista, pari al 36% in sei mesi. Grazie. Il consigliere Tizia Fernandes può rieplicare, prego. Non sono molto soddisfatta, Assessore, mi scuso, ma vorrei una precisazione. A parte che alcuni cittadini riferiscono che la 713 è vuota sia all'inizio che alla fine del percorso, quindi su questo maggior utilizzo magari è un maggior utilizzo su altre linee, non è complessivo, quindi la 713 per esempio presenta proprio questa differenza. Nella risposta che mi avete dato, si parla di un prolungamento della 713 lungo via rimembranze, via le rimembranze e via Pisa. Ecco, le persone che utilizzavano prima la 700 e che adesso chiedono e che chiedevano il ripristino riferiscono che questo prolungamento risulta inefficace per le esigenze delle persone, in particolare le persone abitanti a Cascina Gatti o comunque le tre strade. Essi propongono non di prolungare la 713, ma la 700, io adesso qui vado oltre l'interrogazione per fare una proposta che spero venga presa in considerazione, di prolungare la 700 da via Pace in via le rimembranze, cioè non è la 713 che deve essere prolungata in via le rimembranze, ma la 700 facendo tutta via le rimembranze al cimitero gira e ritorna al punto di via Pace. Quindi c'è solo quel prolungamento lì che andrebbe fatto. Questo che cosa permetterebbe alle persone di quelle zone che adesso sono lasciate, giustamente come dice lei c'è una fermata a 250 metri, siccome l'utilizzo e soprattutto delle persone anziane, quello dei mezzi che non usano la macchina, che non possono guidare, queste devono fare con borse, con borse della spesa, con tutto quello che è necessario, 250 metri di strada, non è poco. Ecco, queste persone invece avrebbero beneficio dal prolungamento della 700 e non della 713 perché a loro permetterebbe di andare all'ufficio di igiene, alla posta centrale, i pacchi, le raccomandate, alla metro di Sesto Marelli, perché la metro di Sesto Marelli ha un biglietto che costa meno rispetto a quello della fermata di Sesto Rondò, nonché ci sarebbe la possibilità di collegare i due cimiteri con un'unica linea. Ecco, questo è quanto mi hanno suggerito di dire perché questo per loro è estremamente importante. Inoltre fanno un'altra richiesta. La linea 713, il sabato, fa un percorso diverso a causa della presenza del mercato e passa nel tratto tra via pace e via fratelli di Dio. Però non si ferma. Anche lì uno arriva dal mercato con borse e borsoni, fa caldo, piove e deve farsi 250 metri di strada. Ma 250, quello che è comunque, loro chiedono il ripristino di almeno una fermata dove prima si fermava la 700, l'invia fratelli di Dio. Questo consiglierebbe un grande aiuto. Queste sono le due richieste per quanto riguarda la 700 e la 713. Una fermata in più il giorno del sabato nella zona di via fratelli di Dio e il prolungamento non della 713 ma della 700 in via le rimembranze per avere il collegamento con importanti uffici e con il centro, oltre che il collegamento da cimitero a cimitero. Grazie. Facciamo illustrare anche la seconda, così fai una risposta unica? Consigliera di Teferante, puoi illustrare anche la seconda? Grazie. Allora, nella seconda interrogazione abbiamo raccolto il disagio, il disappunto di molti cittadini che ci avevano contattato in seguito alla soppressione dell'autobus 712 che collegava a Piazza Eroscima con Cinisello Balsamo. Anche loro lamentavano la mancanza di preavviso che comunque mi ha appena spiegato e lamentavano soprattutto che da General Cantore Angolo via Edison per tutta la via Marzabotto fino al cimitero nuovo non passava più alcun mezzo pubblico e quindi rimanevano completamente isolati i cittadini di questa zona. Inoltre, per i lavoratori gli studenti, la soppressione della linea 708 che collegava il cimitero al Parco Nord, anche questo causava grossi disagi perché era un servizio indispensabile per i ragazzi che frequentano la scuola e che adesso possono usufruire della 708 solo da Sestorondò e devono anche attraversare la strada in ora di punta, anche questi sono problemi di sicurezza oltre che di disagio. A questo punto si chiedeva di comprendere il motivo che aveva portato a lasciare i cittadini della zona di via General Cantore e Angolo via Edison per tutta la via Marzabotto fino al cimitero senza il passaggio di un mezzo pubblico e sapere se era intendimento dell'amministrazione ripristinare il servizio delle due linee e con che modi e tempi. Grazie. Grazie alla consigliera Tinta Ferrante, fa la risposta unica, l'assessore Marini, prego. Può spegnere, grazie. Mi scusi consigliere, stavo cercando una carta, ma non ho niente. La questione della fermata del sabato non le so rispondere in questo momento, mi informo, è una modifica provvisoria temporanea sul sabato e sul mercato. La questione della 700 e della 713, fratelli, no, lì ho l'impressione che con le modifiche ultime messe appunto dal tavolo e validate dal Comune di Milano questa cosa, perché poi la 700 e la 713 si invertono in altri punti, sia un po' difficile, ma volentieri la affrontiamo, la sottoponiamo a verifica. Devo dire che in linea generale la questione della 700 è un problema è questo, nel senso che, l'ho detto più volte, era una linea molto comoda, perché andava dappertutto, molto lenta, estremamente lenta, che aveva un bassissimo tasso di utilizzo. L'ipotesi, anzi, è stata quella di interromperla, fare da una parte la 700 e dall'altra parte la 713. Una parte, la 713 fa una, come dire, una parte del copro, una parte degli elementi sensibili del Comune di Sesto San Giovanni e la 700 l'altra. Lo svantaggio è che in alcuni casi bisogna trasbordare da uno all'altro. Il vantaggio è che gli stessi punti sono toccati comunque dai mezzi pubblici che ci mettono molto meno. E questo vantaggio è quell'aumento che non è irrilevante. Allo stato attuale, peraltro, a metà utilizzato e a metà no, perché alcune fermate non ci sono, eccetera, eccetera, alcune cose sono da aggiustare e verranno aggiustate, ma il passaggio da 3.000 a 4.000 nell'ora di punta non è poco, non è oggettivamente poco. Questo è un dato complessivo. Poi gli uffici stanno analizzando le singole situazioni e spero a breve potremo dare un quadro più di dettaglio tenendo conto che il dato complessivo è quello che poi è più facile da comunicare, perché il dato di dettaglio è, come dire, ad esempio per la 713 non si può avere un dettaglio, un delta, perché prima non c'era. Laddove ad esempio mutano le fermate diventa complesso qualsiasi confronto. A livello aggregato invece no, si può dire che c'è un potenziamento e un relativo effetto positivo delle modifiche. L'altra questione è una questione sulla 708, con qualche forse difficoltà in più, ma quel servizio... Attenzione, scusate, questa modifica è stata fatta a costi zero da questo punto di vista, non ha aumentato. Anzi, il Comune di Milano ha aumentato il servizio ma non la valutazione da questo punto di vista, il suo costo. Quello si è riuscito in qualche modo dopo i primi giustificati, problemi, necessità, poi dopo è entrato abbastanza in funzione. Sul terzo tema invece è il punto sul quale con una modifica della 700 dovremmo riuscire a servire alcuni numeri civici particolarmente abitati. Devo dire che lì c'è stato un problema di dimensioni delle strade, perché l'ipotesi messa a punto dal tavolo di lavoro era leggermente diversa, prevedeva l'uso sia della 713 che della 700 ed era preferibile. Ma la questione di raggi di curvatura e di parcheggi hanno bocciato, il Ministero ha bocciato l'ipotesi. Grazie. Grazie. Grazie all'assessore Marito. Se vuole replicare brevemente così iniziamo. Grazie. Sì, io mi ero dimenticata di dire una cosa, che adesso per andare al cimitero nuovo dalla zona Cascina Gatti e Tre Strade devono prendere la 713 più la 53 più la 700, quindi è notevole il disagio. Quindi mi auguro che questo prolungamento anziché della 713 sia realizzato perché sicuramente porta notevoli vantaggi. Una cosa vorrei dire, visto la quantità delle persone che ci aveva contattato per questo problema, e mi riferisco alla raccolta delle firme, mi sarei aspettato almeno per correttezza istituzionale di essere, e lo dico al sindaco e lo dico a lei, assessore, mi sarei aspettato un aggiornamento, non dico mensile, ma almeno periodico sull'andamento di questo tavolo del lavoro. Invece siamo rimasti all'oscuro di tutto e addirittura riceviamo la risposta dopo oltre un anno. Questa è l'unica amarezza di tutta la faccenda. Grazie. Grazie alla consigliera Tita Ferrante. Allora, le interrogazioni numero 4, 5 e 8 sono decadute per le due assenze del consigliere Di Stefano. Allora, procediamo con l'appello. La parola al segretario generale. Prego. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, 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 La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavana, a momento assente, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tita Ferrante, presente, Torraco, Tremolada, Vavassori, presente, 5 e 7. Consiglieri presenti, 20. Consiglieri assenti, 5. La seduta è valida. Risultano assenti, giustificati. Consiglieri Di Stefano, Cremonesi, Teormina, Pavan. Occorrono tre scrutatori, Vavassori, Torraco, scrutatore, La Tita Ferrante, consigliere Tita Ferrante. Grazie. Invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. 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 Allora, procediamo con la discussione generale sulle politiche abitative. Su questo argomento, l'assessore di competenza, Felice Cagliani, illustrerà le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, per fronteggiare l'emergenza abitativa, sempre più drammatica, a causa della fortissima crisi economica che ha investito il nostro Paese. Dopo, gentilmente, l'assessore risponderà a qualche domanda. Quindi la parola all'assessore per relazionarci. Grazie. Grazie, Presidente. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma io vorrei iniziare innanzitutto la relazione di questa sera, su cui poi mi aspetto più che domande, magari dal dibattito di avere qualche suggerimento e consiglio, ringraziando gli uffici che operano su questo tema. In particolare, vabbè, ringrazio e saluto il dirigente Zuccoli, in quanto responsabile dell'ufficio, anche se ha avuto l'incarico da poco. Ma soprattutto il ragionier Viesti, che è quello che coordina il lavoro delle sue collaboratrici, e la signora Testa, che è un po' la memoria storica su questo tema della Casa, visto che ha questa delega del Sindaco da ormai una decina d'anni. E che, tra l'altro, quest'anno lo esercita a titolo gratuito. Quindi c'è molto volontariato anche in politica, a parte la vostra presenza da consiglieri che rasenta il volontariato, c'è molto volontariato anche all'interno degli uffici dell'amministrazione comunale. Ringrazio naturalmente anche chi ha proposto al Consiglio comunale la discussione sul tema dell'abitare. È un argomento che preoccupa moltissimo questa amministrazione, anche per quello che ha detto poco fa nell'introduzione il Presidente, ma che soprattutto è motivo di grande sofferenza per molti nostri concittadini. Infatti, dopo la perdita del lavoro, e spesso e volentieri una delle sue prime conseguenze, è la perdita della propria abitazione. Quindi a tragedia si somma tragedia. E per gli adulti di casa, e anche purtroppo, la presa d'atto di un loro personale fallimento con tutto quel che ne segue. Capita ogni tanto di leggere sui giornali o di sentire in televisione i gesti drammatici commessi da qualcuno, ma al di là di quello sono proprio rapporti familiari che si deteriorano, tensioni sociali che nascono all'interno delle famiglie che poi provocano lacerazioni di altro tipo. E ve le lascio facilmente immaginare. Consapevoli di tutto ciò, le amministrazioni che si sono succedute nella nostra città si sono organizzate per garantire non tanto e non solo il diritto al lavoro, ma anche il diritto alla casa. Infatti, nel Comune di Sesto San Giovanni la disponibilità di case pubbliche è nella misura in cui avete potuto leggere dalla scheda. Sono circa, adesso correggerò qualche dato perché quelli sono dati molto indicativi. Sono circa comunque 953 alloggi di proprietà comunale e 1500 di proprietà aler. È un patrimonio pubblico che rispetto all'esistente nell'Interland di Milano è una delle città meglio dotate da questo punto di vista. Dimenticando Rozzano che è tutta una città con immobili, case pubbliche, sono 7000 mi pare, e lasciando fuori Milano che naturalmente ha numeri di altro genere, però la città di Sesto è la città più dotata di edilizia pubblica, ripeto, sia comunale che aler. Oggi però, nonostante questa importante presenza del pubblico in questo settore, la risposta non è più sufficiente. Infatti, sono state appena pubblicate le graduatorie del diciottesimo bando ERP e la situazione è quella che avete trovato sulla scheda. Abbiamo 785 domande idonee per il canone sociale e 97 per il canone moderato. Con una composizione all'interno di questi nuclei familiari che prevede una presenza importante di minori e di anziani, oltre che di portatori di disabilità, che richiederebbero risposte alloggiative mirate e purtroppo, essendo le nostre abitazioni risalgono qualche anno fa, non sono spesso e volentieri sufficientemente attrezzate per la bisogna. In questi ultimi due anni, e in particolare 2012-2013, si è aggiunta, a causa della grave crisi economica, l'emergenza sfratti. E i numeri, l'emergenza sfratti sono questi. Abbiamo avuto nel 2013 150 procedure aperte di sfratto. Cosa vuol dire? Vuol dire che i proprietari delle abitazioni hanno avanzato richiesta di sfratto, quindi di allontanare dalla propria proprietà le persone che risiedevano nella loro casa. Ma l'aumento esponenziale è avvenuto soprattutto tra le persone che soffrono del pignoramento da parte delle banche. Avevamo fino a un paio d'anni fa numeri risibili, 3-4 casi. Oggi ne abbiamo 50, il che adesso in termini di cifra assolute sono sempre pochi numeri, però in termini percentuali è una percentuale difficilmente calcolabile. Questo perché? Perché naturalmente le persone non riescono più a far fronte al mutuo sottoscritto anni addietro. In presenza di questa situazione che ci ha visti particolarmente impegnati su questo fronte, l'amministrazione comunale che cosa sta facendo? Visto che questo è il Consiglio comunale, è l'organo di indirizzo e di controllo sull'attività dell'amministrazione comunale, è la sede più appropriata per confrontarci anche sia sulle iniziative che abbiamo messo in campo, sia sugli indirizzi che da questo Consiglio possono arrivare e perfezionare la nostra azione amministrativa. Abbiamo in pratica continuato con un'iniziativa che esisteva già e che si chiama LOCARE, che è la possibilità di sottoscrivere dei contratti da parte del richiedente, soprattutto canone moderato in questo caso, direttamente con la proprietà e con una triangolazione fatta dalla Banca di Credito Cooperativa, dalla Carides e dall'amministrazione comunale che funzionano da garanti dell'assolvimento degli impegni che si prende la persona che entra in affitto. Con questa iniziativa abbiamo trovato abitazione per 14 nuclei familiari. Poi abbiamo fortemente incrementato le sublocazioni. A differenza di LOCARE le sublocazioni cosa vuol dire? Vuol dire che il contratto viene stipulato direttamente dall'amministrazione comunale e utilizza l'appartamento sfitto messo a disposizione dai cittadini per turnare i nuclei familiari che hanno questa necessità e che man mano che si libera una casa pubblica liberano questa casa per poi rimetterla a disposizione di altri nuclei familiari. E con questa iniziativa abbiamo dato risposte a 53 famiglie. Guardate che sono numeri molto importanti. Sono numeri importanti anche i piccoli numeri, perché di fronte al dramma anche la risposta a una singola persona, a un singolo nucleo familiare è una bella risposta da parte dell'amministrazione. Detto ciò, cosa abbiamo fatto? Con ALER, che è proprietaria di 1500 alloggi in città, abbiamo convenuto tramite la collaborazione e anche di questo devo dire grazie e devo dare atto della collaborazione, dell'agenzia che esiste qui in città e che ha sede in via Carducino. Noi abbiamo la fortuna di avere anche un ufficio decentrato di ALER e quindi è molto più semplice la chiacchierata con loro e con questi signori abbiamo concordato, cosa che non avveniva prima, la possibilità di dare in affitto, di far entrare nelle loro case famiglie anche in condizioni non perfette dal punto di vista manutentivo, se c'è la disponibilità da parte del nucleo che entra in casa a fare i lavori in proprio. Questo perché se così non fosse ALER li terrebbe sfitti in attesa di fare lei la manutenzione, parlo di piccole manutenzioni, non si parla di grandi interventi, diciamo impianto elettrico piuttosto che qualche altro impianto minimo, indispensabile. E allora per evitare di avere alloggi sfitti che poi naturalmente possono essere oggetto di attenzione da parte di chi abusa e comunque di fronte al dramma della casa avere alloggi vuoti, abbiamo trovato questa formula che tra l'altro funziona benissimo e che ha visto in Sesto San Giovanni un po' questo primo esperimento che adesso stanno un po' ripetendo anche altrove in primis Milano che ha problemi molto 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 più seri di quanti non abbiamo noi. Oltre a questo noi utilizziamo, ripeto soprattutto per quanto riguarda gli sfrattati, le due residenze temporanee che sono state costruite qualche anno fa, circa 6-7 anni fa, che sono delle residenze che erano state concepite all'epoca per ospitare o studenti o lavoratori che venivano a lavorare sul nostro territorio e che quindi avrebbero avuto la necessità di un'abitazione per il periodo in cui erano occupati e comunque magari durante la settimana liberandola poi nel weekend. Visto che la crisi ha consentito di rivedere questa impostazione, stiamo utilizzando anche queste residenze temporanee per collocare lì altri sfrattati. Cerchiamo di usarli sempre meno perché rispetto alla sublocazione o rispetto locale ci costano molto di più. Quindi cerchiamo di usarli proprio quando siamo in condizioni di nessuna offerta da altre parti. Qui in città poi esiste da tempo la Casalbergo, voi sapete la Casalbergo che è gestita dalla Fondazione San Carlo, che ospita persone in grandi difficoltà, che ci mette a disposizione diciamo tre o quattro possibilità di alloggiare. Lì è una formula un po' tipo residenze, c'è la condivisione del momento pasto, c'è la condivisione di altri spazi, però è un edificio ben presidiato dalla Fondazione Cariplo che ci dà sufficienti garanzie di ospitalità dignitosa per le persone che lì vengono ricoverate. In genere in questi ambienti ricoveriamo donne, donne sole o donne con bambini, perché questa è l'impostazione che si è data alla Fondazione San Carlo. Poi vabbè rimangono le soluzioni proprio estrema razio che sono l'albergo, laddove proprio la condizione, non abbiamo altre opportunità e la comunità che però utilizziamo molto meno frequentemente perché comporta poi una serie di regole che vedono magari la suddivisione del nucleo familiare perché ospiterebbero solo la mamma con i bambini e quindi ci obbligherebbe a dividere le famiglie ed è una situazione che non usiamo quasi assolutamente più. Queste sono le iniziative messe in campo dall'amministrazione per rispondere all'emergenza sfratta. Naturalmente in città abbiamo rimesso in piedi con questa nuova giunta, non esisteva prima, anche la commissione emergenze abitative dove tra l'altro sono nominati di diritto anche la consigliera Iosa e il consigliere Torraco, ma è una commissione a cui partecipa l'Unione Inquilini, partecipa ALER, partecipano i servizi sociali, partecipa l'amministrazione comunale e la persona dell'assessore più i funzionari, ho dimenticato qualcuno? No, partecipano tutti questi soggetti, quindi sono tutti i soggetti interessati su questo tema e che discutono di quei casi che non sono in elenco e che avrebbero la possibilità di entrare, di andare a scavalco di chi è in elenco per particolari condizioni in deroga, insomma, tramite cosa che è consentita dalla legge. Vengono valutati in quella commissione se decide sì, no o perché, insomma. Questo è quanto è stato fatto dal punto di vista amministrativo, però siccome il tema della casa è un tema che vede noi come amministratori... Ah, chiedo scusa, Presidente, probabilmente non so qual è il mio tempo a disposizione, forse sforo i 20 minuti, non vorrei, eh, magari mi si secca la gola, però mi richiami se per caso. No, no, vada tranquillo. Allora, dicevo, noi gestiamo questo tema dal punto di vista amministrativo, ma la gestione di questo tema risponde a una legge regionale da quando con la modifica del titolo quinto sono state date competenze alla Regione, ed è una legge regionale numero 27 del 2009, che è quella che un po' regola l'assegnazione delle case. Allora, visto che a noi tocca fare gli amministratori e visto che il tema non può essere a carico della sola responsabilità amministrativa del Comune, della comunità sestese in questo particolare momento, ci siamo guardati in giro e abbiamo detto, vabbè, ma su questo tema sarebbe opportuno che coinvolgiamo anche tutte le istituzioni che hanno determinate responsabilità o hanno determinati ruoli. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo visitato il prefetto, non l'attuale, anche quello che c'era, che non era Lombardi, che è quello che è rimasto un anno, insomma. Nel 2012 siamo andati subito in prima istanza dal prefetto, che era una persona di cui non ricordo il nome, è rimasto un solo anno, chiedendogli al prefetto la possibilità di bloccare gli sfratti, rallentare gli sfratti, modificare questa urgenza di richiesta sfratti. Naturalmente questo signore, siccome era lì in via del tutto temporanea, non è che ci ha dato molta soddisfazione, anzi le cose non sono assolutamente cambiate. Anzi, in quella sede lì addirittura eravamo presenti in quantità industriale, perché c'eravamo noi, c'era il Comune di Milano, c'erano tutti i sindacati, sì, c'è Sunia, Unione Inquilini e altri vari comitati per la Casa di Milano, ma in quell'occasione la risposta è stata completamente negativa. Abbiamo avvicinato anche l'attuale prefetto, ben due volte, in prefettura, reiterando questa nostra richiesta, chiedendo almeno che ci fosse una graduazione degli sfratti. Oggi come oggi noi abbiamo la fortuna, e questo è il terzo grazie che dico stasera, di avere anche un ufficiale giudiziario che è particolarmente attento e sensibile su questo tema. Quindi noi, quando c'è una richiesta sfratti, arriviamo a volte al terzo, al quarto, al quinto rinvio da parte dell'ufficiale giudiziario, che è veramente una cosa che ci consente di gestire un po' meglio questa emergenza. Quindi grazie anche a lei che opera con tutta questa sensibilità. Però l'abbiamo fatta questa richiesta al prefetto, anche ultimamente, anche perché la legge numero 124 del 28 ottobre 2013, che all'articolo 7 ha come titolo misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, l'ultimo capoverso, meglio il penultimo, l'ultimo dice poco o niente, quando dice le risorse di cui è presente il comma, l'ecco, sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto anche attraverso organismi comunali. Punto. A tal fine le prefetture, uffici territoriali del governo, adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Quindi, forti di quanto era scritto nella legge, abbiamo reiterato la nostra richiesta all'attuale prefetto. La risposta che ci è stata data è una risposta corretta, non mi sognerei mai di dire altro, perché il prefetto dice, o meglio i suoi collaboratori, dicono ma noi fino a che non abbiamo i decreti attuativi che ci dicono come dobbiamo regolare questa graduazione degli sfratti, io non posso muovermi. È corretto, da punto di vista formale. Certo che in presenza di una emergenza come quella che vi ho appena ricordato, mi lascia un po' basito. Adesso vedo di andare un po' avanti veloce perché sennò... Allora, dopo aver incontrato il prefetto cosa abbiamo fatto? Seconda cosa, visto che non si schiodava alcunché, abbiamo chiesto insieme ad altri comuni, abbiamo fatto come amministrazione di Sesto San Giovanni perché non sapevamo cos'altro inventarci, abbiamo chiesto di incontrare la quinta commissione regionale perché volevamo che anche loro fossero coscienti di qual era il dramma, perché a volte ci sembra che alcuni palazzi che non vivono in trincea non riescono a percepire fino in fondo qual è il dramma che non io personalmente, o non tanto io personalmente, ma i collaboratori dell'assessorato alla casa vivono quasi quotidianamente. E allora abbiamo chiesto l'audizione a questa quinta commissione, abbiamo evidenziato in quella sede noi, Cinisello, Bollate, Rò, Cernusco, Pioltello e non so quale altro comune. In genere ci muoviamo in sette comuni che poi sono i sette comuni che hanno il problema dei contratti di quartiere di cui poi dirò qualcosa. Ci è stato promesso un tavolo, che non un tavolo, un tavolo di incontro. Per carità, io non lo rifiuto, anche perché un tavolo non lo si lega nessuno. Però non l'abbiamo ancora visto concretizzarsi questo tavolo, quindi ci promettiamo di fare nuovamente pressione al Presidente della quinta commissione. Fatto questo passaggio in regione a livello istituzionale abbiamo avuto ripetuti e diversi incontri con Aler. E non vi dico la fatica con Aler, adesso non vi sto qui a spiegare qual è la situazione di Aler perché avrete letto sui giornali le difficoltà che incontra questa agenzia regionale, sia a livello economico che a livello organizzativo. Però, siccome noi abbiamo due contratti di quartiere in essere, non ancora completati, dove l'amministrazione comunale ha fatto in pieno la sua parte, regione è disponibile a fare la sua parte, la parte inadempiente è Aler perché ci deve mettere dei soldi che oggi non ha assolutamente. E allora siamo andati in Aler con la vecchia direzione, ne abbiamo già viste tre di direzione, questa è la terza, abbiamo visto il primo, il secondo e la terza. Siamo andati in Aler per dire, vabbè, ma scusate, noi su questa cosa qui non possiamo tirare una riga e buttare tutto nel cestino. Prima perché ci sono dei cittadini con i quali noi abbiamo preso degli impegni e che si aspettano delle risposte, soprattutto la parte di Aler. Ma secondo perché io, in quei contratti di quartiere, da una parte avrei dovuto avere a disposizione oggi, contratto di quartiere 2 Parpagliona, 106 alloggi che vi lascio immaginare quanto mi avrebbero fatto comodo, 46 a canone sociale e 60 a canone moderato e dall'altra parte una trentina, 30-40. Guardo l'architetto piazza, il 4 grazie, che ci sta accompagnando nella gestione di questi contratti. Nel senso che è logico che tramite la Regione, che è disposta comunque a confermare l'importo della sua spesa, stiamo valutando l'opportunità di, piuttosto che niente, di gestire il piuttosto, in modo tale che ci possiamo portare a casa, se non tutto, buona parte di quello che era stato promesso all'epoca. L'abbiamo promosso, siccome questa cosa qui è più siamo e meglio stiamo, come si dice, l'unione fa la forza, tanto per usare frasi fatte, ci siamo spesso e volentieri, quasi sempre, mossi in accordo con tutti gli altri comuni. A parte i sette comuni che hanno i contratti di quartiere ancora aperti, ma abbiamo fatto una riunione ancora in lotempore, diciamo un anno e mezzo fa, con addirittura i 33 comuni dell'intero di Milano, chiedendo a Milano stessa di farsi capo di questo coordinamento. Poi c'è stato anche lì un cambio di assessorato in corso d'anno, si è perso un po' il pilo del coordinamento e quindi siamo andati avanti con i comuni con i quali eravamo più frequentemente in contatto. Abbiamo inoltre, ripeto, proprio ragionando su che cosa fare per affrontare al meglio questo problema, abbiamo anche sollecitato e ottenuto un incontro il 21 febbraio del 2014 con i parlamentari eletti nella nostra circoscrizione. È vero, ho incontrato solo i parlamentari di centro-sinistra, però mi avrebbe fatto piacere poter incontrare anche i parlamentari di centro-destra, forse questo è un difetto da parte mia. Comunque incontrando i parlamentari di centro-sinistra abbiamo coinvolto anche loro su questo tema e abbiamo chiesto loro un intervento. I parlamentari che cosa hanno fatto? Hanno fatto due interrogazioni parlamentari in data 4 marzo, una indirizzata al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al ministro dell'economia e delle finanze, cioè l'UBI, con titolo Fondo Sostegno Affitti, quindi c'era una sollecitazione da parte loro a rispondere su questo tema. Non ho ancora la risposta né per questa né per l'altra. E l'altra invece era indirizzata al ministro dell'interno che aveva come tema la graduazione degli sfratti, che è quello di cui vi ho parlato. Sollecitavo al ministro a fare questi benedetti decreti attuativi, in modo tali che le prefetture potessero eventualmente muoversi di conseguenza. Abbiamo incontrato l'assessore regionale alla casa, l'assessore Bulbarelli, l'abbiamo incontrato da soli insieme all'assessore Marini, che ha la titolarità dei contratti di quartiere, l'abbiamo incontrato sia da solo che ultimamente, ultimamente vuol dire 24 marzo, insieme agli altri comuni, dove lì abbiamo concordato con lei che è stato riconfermato l'impegno della regione a trovare una quadra sui contratti di quartiere. Adesso avremo degli incontri singoli, comune per comune, in modo tale con la regione, con i dirigenti della regione, si concordino alle modalità operative su come intervenire in questi contratti di quartiere. Ultima cosa che abbiamo messo in pista, abbiamo avuto un paio di incontri con ANCI, ANCI è l'Associazione Nazionale Comune d'Italia, l'ultimo incontro è avvenuto il 3 marzo, un mesetto fa circa, e anche ANCI ha detto che avrebbe riportato il problema ad ANCI Nazionale, mi ha detto, mi ha promesso che sarebbero venuti in zona sul territorio a fare addirittura un video, tu non c'eri Edo, a fare un video sul territorio con la presenza dei funzionari, assessori, in modo tale da documentare anche visivamente qual è la situazione dei nostri contratti di quartiere per fare pressione a chi di dovere. Detto ciò, per governare l'emergenza, le ultime due iniziative che abbiamo messo in campo sono quelle che avete trovato anche sul portale. Sul portale voi avete visto il Comune cerca casa, se non avete avuto occasione di vederlo vi invito ad andarlo a vedere, cioè in pratica in quel portale, in quell'avviso si dice alla città, hai degli alloggi sfitti, arredati sì o arredati no, che non riesci ad affittare per mali motivi o di cui non hai esigenza immediata, se ce li proponi, se li proponi all'amministrazione comunale con il metodo della sublocazione, noi facciamo un contratto con chi ha questa necessità e garantiamo noi il pagamento dell'affitto, fatto salvo poi recuperare una parte da quegli inquilini che possono eventualmente retrocedere. Guardate questa cosa qui, adesso spendo una parola ma veramente una, questa cosa qui noi a volte in città organizziamo iniziative benefiche, ne abbiamo fatta una recentemente, una serata per ProLilte in cui siamo stati tutti invitati a condividere una cena, in modo tale che l'importo poi venisse messo a disposizione a queste associazioni di volontariato. Questa rientra in queste iniziative, non consideratelo solo una cosa, un puro affare economico. In pratica noi diciamo alla città, te la senti di farti carico insieme all'amministrazione di trovare delle risposte a chi è in un particolare momento di bisogno. Se te la senti non ti chiedo soldi, hai una casa vuota, facciamo un contratto, è una casa vuota che non ti serve per un po' di tempo, facciamo un contratto, la metti a disposizione. Guardate che non è solo un atto di generosità, è anche un atto e soprattutto, ma di sicuro anche un atto di generosità, però è anche un gesto che torna comodo alla città, che torna comodo a te stesso, che dai la casa. Cioè nel momento in cui abbiamo una città che si fa carico dei problemi della città, noi avremo di sicuro una città con minore persone magari che dormono in macchina, che dormono in giro nei giardini, magari anche una città pulita per affrontare altri temi. Se ogni cittadino vivesse la città come casa propria. Quindi chi mi offre una casa non fa sempre un semplice gesto di generosità, ma ne avrà anche un beneficio dal punto di vista dell'ordine cittadino, perché avremo meno disagi in città. Spesso volentieri arrivano delle mail, qui c'è il tizio che dorme nel camper, qui così o dorme nei giardinetti. Hai capito? Le risposte noi le stiamo costruendo e compete soprattutto a noi. La responsabilità prima è nostra, ma questa responsabilità va condivisa con la città. L'altro giorno sono andato a nome del sindaco a una messa che ricordava la morte dell'agente Antonino Crisafulli. Ve la cito a modo di esempio, ma tanto per dire quali sono le modalità con cui stare in una comunità, con cui vivere in comunità. Voi ricordate benissimo che l'ispettore Crisafulli stava andando in ferie, era successo un incidente in autostrada e non si è chiesto non tocca a me. Ha visto che c'era un problema e stava andando in ferie, non era in servizio e ha fatto quello che si è sentito in obbligo di fare. Poi purtroppo ha pagato con la vita questo suo gesto. Allora, spesso e volentieri noi ci fermiamo al senso del dovere. Cioè nel momento in cui uno mette una divisa o mette la giacca e la cravatta, so che io devo fare questo sul lavoro, devo fare questo. E poi basta. Ma c'è un senso di responsabilità più grande che ci occupa H24, che non finisce, che non finisce in un certo momento. Quindi anche questa iniziativa rientra in questo senso di responsabilità a vivere in una comunità che è la nostra comunità. Chiuso il pistolotto. Vado oltre. Beh, naturalmente l'altra iniziativa che abbiamo cavalcato alla grande in questo ultimo periodo è quella delibera di giunta regionale che è stata fatta il 5 dicembre, che scadeva al fine dicembre. Abbiamo provato una delibera di giunta senza avere il testo della delibera, mi pare di ricordare, chiedo ai colleghi, proprio perché dicevano ma cos'è, fanno opposta. Fanno il 5 dicembre una delibera che scade a fine dicembre sapendo che a dicembre si lavora fino al 15 e poi non c'è più nessuno. Vogliono dire che l'abbiamo fatta e nessuno ha aderito. Noi abbiamo corso come dei dannati e l'abbiamo fatta. Poi so che hanno tenuto le porte aperte e quindi anche chi è arrivato dopo dicembre ha avuto la possibilità di accedere a questo fondo. Comunque questo è, ricalca un po' l'intervento che noi facciamo in sublocazione. Cioè in pratica la giunta regionale mette dei soldi, naturalmente la delibera recita se la trova. Iniziativa di Regione Lombardia, fondo sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione in locazione. Quindi stanza dei soldi 130 mila quest'anno, 130 mila l'anno prossimo, a disposizione dell'amministrazione comunale per le iniziative in pratica come la sublocazione o meglio, addirittura in questo caso qui però stiamo cercando di definire con la dirigenza se abbiamo capito bene o abbiamo capito male, se addirittura possiamo utilizzarli per dire quella signora lì che è sfrattata, fai una cosa, io posso con questi soldi pagare l'eventuale arretrato, diciamo parliamo dell'amorosità incolpevole, l'eventuale arretrato di questa persona se non sono cifre esagerate, in modo tale che la persona addirittura non esca da quell'abitazione, possa rimanere per un determinato periodo, certo, poi vedremo altre soluzioni. L'ultima cosa che vi voglio dire, ma sono anche le cose più importanti, noi stiamo cercando, e vengo all'ultimo punto, stiamo cercando come anticipavo a poc'anzi di chiudere con Aler almeno una partita, un contratto di quartiere che ci vede particolarmente impegnati proprio perché è la famosa ex casa di plastica, la conoscete tutti, la ex casa di plastica in via Catania, era una casa costruita da un ingegnere svizzero, eccetera, che aveva costruito con, era svizzero, giapponese, non italiano, un non italiano che aveva costruito questa casa fatta con le resine, che era naturalmente freddissima d'inverno e caldissima d'estate, era un esperimento a cui ogni tanto gli architetti si dilettano, che naturalmente non è andata a buon fine, è stata abbattuta nel 2010 e Aler avrebbe dovuto costruire una bella palazzina con stile classico, cioè con i metodi tradizionali, che dai 24 o 28 appartamenti, l'oggi che c'era una casa di plastica sarebbero diventati 46 alloggi, casa di plastica. Noi stiamo puntando su questo con Aler e io oso un'anticipazione, poi tocco dappertutto, però siccome abbiamo avuto contatti seri anche con l'impresa recentemente, ho la fondata speranza che fine giugno e primi di luglio possano iniziare i lavori. Ve lo dico con beneficio di inventario e siete i primi a saperlo, al di là degli addetti ai lavori, spero che non porti male il fatto di averlo detto qui, però ci auguriamo fermamente, stiamo lavorando in tal senso, perché a fine giugno, diciamo ai primi di luglio, possano iniziare i lavori, in modo tale che nell'arco dei successivi 18 mesi possiamo avere a disposizione questi ulteriori alloggi. Naturalmente più disponibilità di case abbiamo sia in città che dal punto di vista dell'edilizia pubblica, libereremo sempre più e sempre meglio facilmente le residenze temporanee che hanno un costo rispetto alle sublocazioni decisamente più alto e come oggi abbiamo una decina di nuclei familiari nella residenza di Via Puccini, però l'intenzione è di liberarli quanto prima per gravare il meno possibile sui bilanci dell'amministrazione comunale. Ancora due cose, l'ultima importantissima, abbiamo tra l'altro aperto ultimamente un dialogo con le cooperative, cooperative rosse e bianche io dico, perché fino a un anno fa le cooperative erano abbastanza rigide su questa cosa, io avevo già avvicinato un anno fa, ho detto no, noi facciamo per i soci, noi non abbiamo possibilità di darli a voi, se li diamo, li diamo con una percentuale del 5 per 1000 sul valore del costruito, sul valore e venivano prezzi esagerati e è passato un anno e la crisi che ci ha portato un sacco di guai, porta anche qualche vantaggio, ha portato le stesse cooperative a più miti consigli, nel senso che utilizzando i cosiddetti SAC, che sono sempre un'iniziativa a livello regionale e che stanno per servizi abitativi a canone convenzionato, danno una loro disponibilità a mettere in affitto un certo numero di alloggi delle case che stanno costruendo, soprattutto lì alla bergamella dove lavorano entrambe le cooperative, c'è sia la cooperativa Uniabita che la cooperativa edilizia Cascina Gatti Solidarnosc e poi speriamo che si apra anche a qualche altra cooperativa che è sul territorio che fa fatica, che fa fatica a vendere. Certo, facciamo anche un favore alle cooperative, però è reciproco, d'altronde l'accordo lo si fa se entrambe le parti ne hanno un tornaconto, questo è detto in modo un po' prosaico. L'ultimo punto, ma lo dico così, così a passare, ma è veramente il punto penso più importante, è la modifica della legge 27. Noi l'abbiamo già detto in più sedi, l'abbiamo detto alla Regione, l'abbiamo detto ai consiglieri regionali, l'abbiamo detto ai parlamentari, anche se non c'entrano poco o niente, perché è una legge regionale, c'è una proposta di modifica da parte di alcuni gruppi parlamentari, so che ci stanno lavorando diversi gruppi parlamentari, ma quella legge 27 che risale al 2009 va modificata, ma lo stesso Prerp, che è stato approvato in giunta regionale un mese fa, ragiona anche in termini diversi, cioè parla ad esempio della suddivisione degli appartamenti, visto che in prospettiva i nuclei familiari tendenzialmente tendono a ridursi numericamente, a parte la componente extracomunitari che ha ancora numeri importanti, però sono molti di più le donne singole o i separati o gli anziani che sono soli in appartamenti anche sufficientemente grandi. Guardate che questa è un'iniziativa che noi abbiamo già tentato qualche anno fa e avevamo avuto anche qualche risultato, perché avevamo ricavato mi pare un 15 appartamenti, cioè avevamo fatto a Cascinagatti, al contratto di quartiere 1, avevamo fatto la separazione, non so, adesso vi dico dei numeri a capocchi, 100 metri quadri dove magari c'era dentro l'anziano solo perché era vedovo, ho detto guarda, dividiamo, facciamo due appartamenti, tu risparmi nelle spese e io ho un altro appartamento in più. L'abbiamo fatto, quindi Cina, solo che poi Aler non ci ha accompagnato in questo percorso, ha avuto dei ritardi notevoli Aler e la cosa che invece stava prendendo piede è in pratica morta sul nascere. Adesso viene riproposto nel PREP della regione, come del resto viene sollecitata una diversa mobilità delle case pubbliche, come del resto viene sollecitata una diversa sostenibilità della casa pubblica per non trovarsi con la situazione Aler che non sa da che parte recuperare questi soldi. Quindi è di sicuro l'atto fondamentale perché poi è l'atto che governa le assegnazioni e quindi vanno riviste alla luce della nuova situazione, della situazione che purtroppo la crisi ha determinato e siccome questa crisi non ci abbandonerà, cioè o meglio, miglioreremo di sicuro sempre perché voglio essere ottimista. Poi torno a ripetere, sul nostro territorio Expo, piuttosto che oggi c'è la Fiera del Mobile che pare che abbia generato comunque interessi sul territorio, piuttosto che la Città della Salute. Sul nostro territorio i numeri non sono quelli che ci vengono raccontati al telegiornale, sono numeri decisamente molto più bassi dal punto di vista della disoccupazione, però sono numeri comunque che toccano molte nostre famiglie e molti nostri conoscenti. E allora è logico che il tema della casa pubblica, che io ritengo che debba esserci, debba permanere, ma deve permanere con una mobilità maggiore. Io sono convinto che la casa pubblica deve rispondere a particolare bisogno momentaneo di quei nuclei familiari che si trovano in condizioni sfavorevoli. Perde il lavoro, una malattia, una separazione. Deve rispondere a questi casi. E allora la turnazione nelle case popolari deve prevedere dei livelli di reddito ISE che siano veramente, che incontrino la domanda, il bisogno. Perché se i livelli ISE sono troppo elevati per quanto riguarda la permanenza, dico la permanenza, è logico che non si liberano più quelle case lì. E io ho mille case bloccate, vita natural durante. Sappiate che la turnazione qui a Sesto San Giovanni sulle case pubbliche, case comunali dico, sono non più di una cinquantina. Considerate che una cinquantina all'arco del anno, una ventina, 20-25 sono magari dei subentri. Cioè è gente che ha maturato comunque il diritto, figli, nipoti o chissà chi altro, ha maturato il diritto sulla base della legge regionale di rimanere in quella casa perché ha reddit Italia e ha titolo per, e quindi io ne ho 25 per gli sfrattati. Voi capite che la fatica è grande, è la fatica. La fatica soprattutto, torno a ripetere, di chi è in prima linea molto più di me e molto meglio di me. Non so se vi ho raccontato tutto. Avevo scritto alcune cose, poi sono andato a braccio, spero di non aver dimenticato nulla. Comunque sono qui. Ecco, mi dicono che i prefetti nell'ultimo, giusto per correttezza, nell'ultimo periodo, dove salto il prefetto Ferranti perché non l'ho mai incrociato. Forse Lombardi neppure come prefetto, ma l'ho incrociato come presidente Haller. Ecco, il prefetto Andreana, che era il prefetto che c'era prima, e l'attuale che è il prefetto Tronca. Grazie, grazie. E adesso vi aspetto un bel dibattito. Non facciamo il giochino dell'opposizione, della maggioranza. Mi piacerebbe che fosse un bel dibattito in cui ognuno potesse fare una proposta. Non mi interessano le loti perché non sono miei, ma sarebbero dei collaboratori. Vabbè, se mi arriva qualche critica me la prendo. Ok, grazie. Grazie all'assessore Cagliani per averci relazionato in modo molto dettagliato. Prima di aprire il dibattito, se vogliamo fare qualche domanda all'assessore. Prego, consigliere Franciosi. Grazie, Presidente. Una domanda molto veloce. Prima lei ha citato l'incontro che avete avuto in Regione e in Commissione 5. Di quella Commissione la consigliera Nanni del Movimento mi ha detto che a un certo punto ha parlato e vi ha proposto di utilizzare, se possibile, infatti la mia domanda è attuabile sul nostro territorio, una cosa del genere, il protocollo che il Comune di Milano, Aler e se non sbaglio la Regione o la provincia di Milano hanno stipulato per gestire il problema abitativo a livello proprio del Comune di Milano. Mi domandavo se era possibile, o se non avete preso in considerazione questa opzione perché non è realizzabile, fare una cosa del genere utilizzando Aler Nord Milano, i Comuni del Nord Milano e Regione. Grazie. Prego. Prego l'assessore. Mi dispiace se tolgo la giacca. No, non l'abbiamo utilizzata, ma sai perché? Perché Aler e Milano è un pasticcio immenso, cioè nel senso dialogano poco, cioè nel senso Milano non ha, o meglio, è proprietario di molte case pubbliche, ma le ha date tutte in gestione Aler e a Milano è quella situazione che potete aver letto sui giornali, che non è una situazione idilliaca. Non l'abbiamo presa in considerazione perché saremmo finiti in un pentolone che ci avrebbe rovinato la bontà delle nostre iniziative. E quindi, visto che abbiamo questo rapporto preferenziale e tra l'altro che funziona con la sede staccata qui di Aler di Sesto, abbiamo detto continuiamo a lavorare sul nostro territorio in questo senso perché così noi riusciamo a rispondere. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola a Romaniel per fare una domanda. Prego. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere... Sì, vogliamo un po' di domande e poi fare una risposta unica. Prego. Sì, volevo chiedere rispetto all'iniziativa di andare a cercare dai privati gli alloggi poi da dare in subaffitto. Come modalità ritiene, si pensa che sia più conveniente rispetto al fatto di avere in dotazione delle case comunali e se in questo momento la risposta dei cittadini sestesi com'è ad oggi, insomma, come ritorno di questa iniziativa. Grazie, vediamo se ci sono altre domande. Consigliere Caponi Sì, grazie. Non è l'intervento del dibattito questo Presidente, giusto? Dopo mi dà la parola. No, sulla esaustiva dichiarazione del Vice Sindaco le volevo chiedere come mai il progetto locale è rimasto, mi risulta, fermo un po' di tempo perché non ha prodotto i frutti per un certo periodo. E poi le chiedevo, lei parlava prima della Commissione Emergenza Case, quanti casi ha trattato e se ci illustra dove interviene, che modalità e quali casi prende in esame. Aspettiamo ancora un attimo se c'è qualche altra domanda. Prego, Assessore, se vuole rispondere. Allora, il tema della ricerca a casa. Il tema della ricerca a casa l'abbiamo fatto perché? Perché ci dà la possibilità di avere a disposizione, in modo più immediato, spero di rispondere a tono, in modo più immediato una disponibilità che altrimenti non avremmo. Noi andiamo a cercare case sul privato perché io ho le case pubbliche che sono sature, sono tutte occupate, sia le mie che quelle di Aller. Aller forse abbiamo una decina di sfitti che hanno bisogno di interventi manutentivi più seri di quelli che abbiamo previsto, però sono numeri non molto significativi. E la risposta ad oggi, noi abbiamo fatto un primo step adesso a fine marzo, quindi l'altro ieri, e la risposta che ci è arrivata finora sono una quindicina di offerte di case su tutta la città. Non spaventatevi, è un numero interessante, è un numero importante, non è poca cosa. È vero che siamo 81.000, abbiamo visto oggi pomeriggio, 81.300 abitanti e 38.000 nuclei familiari in città. Però una quindicina di risposte su un bando uscito tre mesi fa, che ha bisogno di sedimentare, eccetera, non è una risposta del tutto banale, è una risposta interessante. L'iniziativa di locale, dunque non è che l'abbiamo abbandonata, è che siccome questa cosa qui è fatta con la triplice che si ritrova a garantire la prestazione del servizio, abbiamo purtroppo un componente che ultimamente faceva fatica a rinnovarci la convenzione, che è poi la banca, la banca di credito cooperativo. L'abbiamo sollecitata più volte, c'è stato il cambio di direzione, di amministrazione ultimamente. È una domanda che loro hanno benissimo presente, non più tardi l'altro giorno un funzionario mi ha confermato che ne stanno ancora discutendo, io però siccome gli avevo già anticipato qualche mese fa, gli ho detto vabbè o mi date una risposta o se no io mi rivolgo a tutte le banche del territorio a questo punto, loro mi avevano pregato di aspettare perché avevano un po' un diritto di primogenitura, diciamo, no? E io per correttezza ho aspettato, però è logico che se non mi dovesse arrivare una risposta ci muoveremo anche con altri istituti bancari se la cosa viene condivisa. La commissione emergenza abitativa, quanti casi trattiamo? Non me lo ricordo, so che in genere una decina, adesso guardo la consigliera Iosa e il consigliere Torraco, in genere sono una decina e sono quei casi che vengono sottoposti alla nostra attenzione o dall'ufficio osservatorio casa o più frequentemente dalla stessa unione inquilini che fanno richiesta di assegnazione casa in deroga o dai servizi sociali, quindi sono casi che hanno delle particolari emergenze, non so, famiglia con tre bambini, famiglia con situazioni handicap al 100%, cioè questi casi qui andrebbero quindi a scavalco di altre persone che sono in elenco. Ripeto, ma questo è una cosa consentita dalla legge, l'articolo 14 e l'articolo 15, sono casi che noi assegniamo in deroga secondo l'articolo 14 e l'articolo 15 e i casi che affrontiamo mediamente sono quelli e li affrontiamo con gli attori del tema, cioè quelli che sul territorio conoscono il problema, compreso l'unione inquilini. Grazie all'assessore, se vuole bere un attimino prima avrà sete. Consigliere Vavasoli, per una domandina, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo prima citato, l'assessore Cagliani citava le fasce di reddito ISE, la consegna dell'ISE per quanto riguarda l'assegnazione poi degli alloggi. Ecco, volevo sapere se è previsto un controllo sugli ISE che vengono consegnati o se eventualmente è stato pensato, si penserà di stipulare magari un accordo con la Guardia di Finanza o con qualche altro ente per controllare gli ISE che vengono consegnati. Grazie. Questa è l'ultima, poi apriamo il dibattito. L'assessore, aspettiamo che lei non può fare il Presidente, l'assessore Cagliani. Mi è rimasto il Vizio. Vediamo se c'è qualche domandina di cuore, a troppo lei risponde. Non può fare il Presidente e il Vice Sindaco. Prego. Consigliere De Nove, prego. Volevo fare una domanda, non so se risulta strampalata o potrebbe essere concreta. La casa, proprio in se stesso, la casa dove si abita, cioè l'appartamento, è un bene di prima necessità, però magari ci sono delle case pubbliche o delle case comunque che hanno posti auto, che hanno box, che hanno cose di questo tipo, non si è mai pensato magari quella parte che non fa parte della prima necessità della persona, di destinarle, di affittarle o di fare altre, di affittarle o utilizzarle in un'altra maniera. L'assessore Cagliani, prego. Se facciamo un controllo, hai voglia se facciamo i controlli. Sì, sì, noi verifichiamo regolarmente, poi ho guardato là nell'angolo dell'ingegner Zuccoli che mi ha fatto un cenno vistosissimo di sì col capo e quindi, no no, controlliamo senz'altro anche perché, ripeto, noi sappiamo quanti sono in fascia protezione, quanti sono in fascia d'accesso, quanti sono in fascia di permanenza, quanti sono in fascia di decadenza, che sono le quattro fasce con i quali noi organizziamo la vita abitativa dei cittadini lì all'interno, quindi controlliamo senz'altro. Se ho capito bene, chiedo scusa, consigliere De Noia, mi diceva se potevamo utilizzare i buoni, no, forse ho sbagliato io, perché intendevo se quelle che sono case, ma forse è più attivente al patrimonio del comune, che possono essere, farò la domanda a un altro assessore magari, se era possibile utilizzarla in un'altra maniera, però nel dibattito generale delle politiche abitative era forse una proposta. Guardi, a me più case il demanio offre, io le prendo tutte, visto il bisogno non mi faccio scrupolo, poi è logico che alcune sono magari utilizzabili come abitazioni, altri non sono, torno a ripetere, siccome l'obiettivo è di dare comunque un luogo dignitoso a ogni famiglia, se estese, che fa questa richiesta, è logico che cerchiamo per quanto è possibile di rispettare questo obiettivo. Grazie, Assessore. Direi di aprire il dibattito per consentire a tutti la possibilità di intervenire, apriamo il dibattito rispettando i tempi del regolamento. Prego. Consigliere direttore Racco, che se la parola ne ha facoltà. Prego. Grazie, Presidente. La verità vera è che rispetto a quanto avviene in altri Paesi corrobusti di sistemi di welfare, la politica della Casa in Italia rappresenta tradizionalmente un ambito minore nell'intervento pubblico in termini di impegni finanziari e soprattutto caratterizzato da forte frammentazione negli strumenti utilizzati. In buona sostanza, diversi sistemi per ogni regione. Io spero per il futuro più attenzione, perché la Casa è un diritto essenziale della persona, è il luogo nel quale si concentrano le relazioni familiari, è un elemento fondamentale di tranquillità e sicurezza. Per questo motivo, efficaci politiche per l'abitare sono una parte irrinunciabili di un moderno Stato sociale. La Casa, insieme al lavoro, sono due fattori legati tra loro. Questo va detto. Soprattutto alla luce del fatto che molti cittadini, a causa del perdurare di questa maledetta crisi, perdono il lavoro, perdendo di fatto la possibilità di pagare mutuo l'affitto. Famiglie che si trovano di fronte a molteplici problemi. Chi per avere una casa è stato costretto ad impegnare una quota sproporzionata del proprio reddito, presente e futuro, per poi vedersi rassoffiare dalle stesse banche che ti hanno prestato i soldi. Chi, lavorando fino a quando un lavoro ce l'ha, sacrifica gran parte dello stipendio, rinunciando magari ad altri bisogni familiari, se non addirittura alla spesa per mangiare. In questi anni il fattore Casa è stato un elemento che ha fatto svitare molte famiglie sotto la soglia di povertà, facendole fiombare nell'area di esclusione sociale. Il peso percentuale che le spese per la casa hanno sul reddito familiare è rilevantissimo ed è molto cresciuto negli ultimi anni. Ad esempio, su una famiglia a medio reddito la spesa per l'affitto spesso erode oltre la metà del reddito familiare. L'incidenza del canone tende ad aggravarsi sulle fasce che hanno redditi bassi, arrivando da un impatto sul reddito annuo per un importo che oscilla addirittura tra il 60 e l'80%. Tutti questi problemi non possono essere ignorati e noi non li ignoriamo. Tutte queste persone non devono essere lasciate sole e non ne le lasciamo sole. Noi in questi anni, come appunto diceva adesso l'assessore, ce ne siamo occupati, abbiamo fatto tanto, siamo riusciti a governare il problema tramite diverse iniziative, l'ha detto Focanza e l'assessore, accordi con le famiglie affidando alloggi che richiedevano alcuni piccoli interventi per la messa a norma e che altrimenti resterebbero vuoti. È inoccupati, in attesa di ristrutturazione da parte dell'Ale. Questo ha permesso di ricollocare diverse famiglie, una quarantina circa, diceva l'assessore. Siamo entrati in rete con l'associazione parrocchie, via d'iniziativa locale. Speriamo che adesso si concretizza di nuovo con la banca di credito cooperativa una nuova convenzione in modo da riproporla, perché questo ha dato dei grossi benefici. L'amministrazione ha messo in campo altri provvedimenti, ha detto prima, portale, residenza temporanea, casa d'albergo, solo albergo, insomma, ha fatto e sta facendo diverse iniziative. E poi anche iniziative politiche, ha detto Pocanza, l'amministrazione ha incontrato il profetto nel 2012, nel 2013, 23 volte, chiedendo una graduazione degli sfratti senza esito positivo, chiedendo l'intervento della quinta commissione e tante altre cose che non sto qui a rimensionare, perché appunto l'ha appena detto l'assessore. Insomma, stiamo facendo tanto e intendiamo continuare a farlo. E per questo ringrazio prima di tutto la Vittoria Testa, che per anni ha dato una mano, quasi governando questa tematica. Lei è sempre presente. A volte, quando salgo in commissione, io alla Iosa mi sento quasi di andare in una missione, perché più che parlare di episodi positivi, si va lì e si ha lo sconforte di gente che giustamente ha bisogno. La Vittoria Testa è sempre lì presente a dare una risposta a chiunque. Volevo anche ringraziare il responsabile dell'osservatorio di Esti. E anche, perché no, giustamente, anche la commissaria Iosa, anche lei, insieme all'assessore, cerca di dare il proprio contributo aiutando per questa causa. Concludo dicendo che in una fase di crisi economica e di recessione, con l'attuale come l'attuale, bisogna mettere in campo politiche per la Casa di garantire una risposta rapida sia alla forte domanda sociale, necessita porre attenzione anche ad una crescita fascia di cedo medio, sempre più in difficoltà, che non ha i requisiti per la classica Casa del Popolare e che si confronta con prezzi di mercato ampiamente atti fuori delle proprie possibilità. Tra l'altro, trovare un'abitazione dignitosa a prezzo accessibile è per molti cittadini una sfida quasi impossibile. Ovviamente necessitarà risposte che devono essere sostenibili, sia dal punto di vista economico che sociale. Risposte che consentano ai giovani di emanciparsi e seguire i propri percorsi di studio, professionali e sentimentali. E perché no rilanciare il settore di inizio, al fine di far partire un importante volano sviluppo economico per vincere la scommessa e pertanto la sfida dell'abitare e dello stesso tempo anche del lavoro. Infine, e concludo veramente con un auspicio. Il sistema di welfare e la politica della Casa devono rappresentare per lo Stato e soprattutto per le Regioni un fattore di forte interesse tale da intervenire attraverso provvedimenti pubblici e non a chiacchiere, ma in termini di impegni finanziario e soprattutto non lasciare, come ha fatto fino ad oggi, a oggi soli i comuni a governare questo tema. Grazie. Grazie, consigliere Torranaco. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 per capito. Abbiamo una storia che è la storia di una famiglia la cui bambina è in classe con mia figlia che ha avuto appunto uno sfratto, sono in quattro, contemporaneamente il papà che aveva l'unico reddito ha incontrato i solidarietà quindi ha delle difficoltà, alla fine hanno dovuto lasciarla a loro casa, vivono in una stanza per la generosità di un amico che li sta ospitando temporaneamente appunto in quattro e tutte le mattine fanno un'ora di mezzo pubblico per venire a scuola perché i bambini già venivano a scuola qua e poi ritornare. Queste sono poi le storie drammatiche con cui ci si confronta e come si fa a fare i compiti quando si vive in una stanza così accalcati eccetera. Quindi è vero, è un'emergenza, è drammatica e devo dire io questa sera ho molto apprezzato la relazione dell'assessore Cagliani che ci ha raccontato come si sta impegnando, questo comune si sta impegnando per gestire l'emergenza. Ho molto apprezzato l'attenzione a cercare di creare dei meccanismi comunque di turnover in modo tale da cercare di liberare opportunità per chi ha bisogno così come meccanismi di blocco di alcune situazioni come le case spitte dove a un certo punto si coinvolgono soggetti diversi in una logica anche di una responsabilità sociale un po' condivisa che era un po' l'appello che faceva l'assessore e del farsi carico un po' tutti nella società, ognuno col suo ruolo e non solo chi lo ha come compito, come dovere di questi bisogni. Quindi innescare dei meccanismi che permettano di tampolare questa emergenza e di agevolare la soluzione per piccoli numeri che possono crescere e diventare importanti ma ogni singola storia di ogni singola famiglia o di ogni bisogno è una storia, sono d'accordo con quello che diceva l'assessore Cagliani, è una storia importante. Penso che si debba anche, in questa andava un po' la direzione della conclusione dell'intervento dell'assessore quando parlava della regge regionale, si debba andare anche verso delle soluzioni che rappresentino anche delle possibili nuovi sistemi strutturali di risposta a questo tipo di bisogno che dai dati che ci vengono dati, dei flussi migratori, dei flussi dal sud del mondo, dai paesi più poveri non si fermeranno e quindi questo tipo di bisogno laddove parliamo di un mercato immobiliare che sembra saturo, per cui ci sono case che vengono costruite e non vendute, per cui c'è un mercato per i ceti medi e benestanti che ormai sembra saturo, dall'altra parte ci sarà sempre più un bisogno invece sociale di case, di un certo tipo di case. Allora, una cosa che penso dovremmo iniziare a considerare e a ragionare è anche il tema del patrimonio che abbiamo, che è un patrimonio importante, veniva detto, una delle città con una maggior risposta, però è un patrimonio anche molto costoso, sempre più difficile da manutenere, la manutenzione è diventato sempre di più un problema. Allora, uno dei ragionamenti su cui secondo me dovremmo appunto ragionare è come rimettere in circolo un po' di risorse e quindi fare un ragionamento magari anche di possibilità di riscatto per chi può, per chi magari da tanti anni sta in una casa, la condizione economica è diventata tale per cui si può immaginare che ovviamente con delle condizioni agevolate da considerarsi si possano in queste case diventare magari di proprietà e le risorse che si attivano con questo meccanismo immaginarle in una specie di circolo virtuoso per poi reinvestirlo ovviamente per rispondere ai bisogni invece di chi questo diritto non è ancora riuscito ad averlo, per le giovani famiglie, per i genitori singoli o divorzati, per i nuovi bisogni, per le nuove emergenze. Io penso che anche un ragionamento di questo tipo possiamo iniziare a fare, so benissimo perché ne ho già parlato anche in passato che ci sono dei vincoli nelle normative legali, ci sono dei problemi economici eccetera, però penso che forse una soluzione vada cercata anche in questa direzione perché in questo paese purtroppo da un lato, purtroppo è fortuna, da un lato ci sono delle categorie intere che hanno dei diritti stragarantiti e intoccabili benissimo, ma non si riesce mai a sbloccare invece rispetto ai nuovi bisogni, a chi questi diritti non riesce ad averli neanche proprio al minimo, questo vale per esempio come può succedere nel mercato del lavoro, provare su un altro diritto fondamentale che è quello della casa e io credo che dovremo cercare di fare il possibile per creare turnover, per tamponare l'emergenza, per rispondere ai bisogni e credo che questo lavoro che ci è stato raccontato oggi sia un lavoro fondamentale, ma anche per rimettere in circolo delle risorse, delle energie per riuscire veramente anche strutturalmente, anche in una prospettiva, costruire delle risposte per questi bisogni. Grazie. Grazie alla consigliera Pernasi, ha chiesto la parola la consigliera Antoniolli. Prego, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. L'emergenza a casa è un problema che riguarda un gruppo limitato di popolazione, ma purtroppo coprisce proprio le fasce più deboli, quelle in cui un basso reddito si accompagna alla presenza di minori o di anziani, senza dimenticare anche le eventuali disabilità. Come abbiamo sentito dalla relazione dell'assessore Cagliani, i 150 sfratti nel 2013 sono stati affrontati con l'intervento dell'amministrazione con varie soluzioni e sono grata come cittadina per le soluzioni adottate. Però questi 150 sfratti non rappresentano la totalità delle difficoltà abitative in città. Le richieste di alloggio a canone sociali, a canone moderato in città sono infatti quasi 900. Questo è però il numero che indica la soglia di difficoltà abitativa conclamata. Sappiamo tutti che a questo numero dovremmo aggiungere il numero delle persone che fanno fatica a pagare l'affitto ogni mese. Dovremmo aggiungere il numero delle giovani coppie che faticano a trovare un'abitazione ad un prezzo accessibile per i loro stipendi. Dovremmo aggiungere il numero delle ragazze e dei ragazzi che, oltre a trentenni, devono continuare a vivere in famiglia perché non esistono case o stanze che abbiano un prezzo possibile per loro. A questo numero dovremmo anche aggiungere le persone che hanno perso il lavoro e che sono in grave difficoltà lavorativa e che non possono più pagare il mutuo. E qui le banche hanno una grossa responsabilità. Non aiutano, non aspettano, vogliono tutto e subito e mettono le famiglie e le persone in situazioni drammatiche. Trovo le risposte individuate dall'amministrazione comunale, intelligenti e flessibili, volte a trovare soluzioni utili alle persone che vanno incontro alla stabilità delle famiglie coinvolte e non solo a semplice superamento momentaneo delle difficoltà. Così come trovo importanti i passi fatti durante i vari incontri per porre con forza il problema, ai vari tavoli politici, commissioni regionali, incontri con le amministrazioni per organizzare richieste più forti e pressanti, incontri con l'Aler affinché vengano mantenuti gli impegni delle nuove costruzioni, richieste pressanti e continue per i contratti di quartieri, incontri con i rappresentanti regionali, ecc. Penso siano chiari anche i percorsi sul governo dell'emergenza. Vorrei qui sottolineare come sia importante anche richiedere il cambiamento della norma principale, la legge regionale 27. Senza il cambiamento di questa norma non potremo mai mettere in pratica nessuno degli interventi che potremmo introdurre dei processi innovatori. Alcuni esempi che vengono sempre indicati, che possono portare a riflessioni, discussioni. La casa popolare non è più possibile considerarla per sempre, ma è una possibilità che va a rispondere alle necessità anche per periodi molto lunghi, necessità legate al reddito e o a condizioni sociali particolari. Se tali condizioni cambiano, cambiamento di reddito, miglioramento delle condizioni di vita, ecc., deve, dovrebbe cambiare anche il diritto alla casa o deve cambiare perlomeno il suo affitto. Se con il passare degli anni la casa non è più abitata da una famiglia numerosa, deve essere possibile prendere in considerazione un passaggio ad un'abitazione più piccola, anche se non è facile, perché per le persone anziane diventa difficile cambiare, farle spostare, però probabilmente nel regolamento, quando si dà la casa, bisognerebbe metterlo per iscritto, cosa che al momento non c'è. Così come sembra improponibile mantenere un reddito massimo alto, di circa 35.000 euro, per poter continuare ad avere diritto ad una casa popolare. In questo modo si crea un giro legato a pochi cambiamenti, al mantenimento di affitti bassissimi a fronte di redditi complessivamente medi e a perpetuarsi di liste di attesa a cui non si potrà mai dare una risposta, lista al cui interno troveremo sempre più persone anziane. Si ingenera così sul territorio non solo un'emergenza abitativa a cui dover rispondere, ma anche una tensione abitativa cui le amministrazioni, tutte e non solo la nostra, non possono e non potranno più rispondere. Penso che si possa di nuovo invitare il prefetto ad attuare una graduazione degli sfratti, visto il particolare momento di difficoltà che stiamo attraversando. Infine, penso che bisognerebbe ampliare quello che sta facendo l'amministrazione comunale, attraverso una collaborazione attenta, una collaborazione attiva con altri comuni e le istituzioni esistenti. Avere una città viva, una città attiva, che vada incontro ai disoccupati, incontro a chi ha bisogno della casa. Grazie. Grazie alla consigliere Antonioli, ha chiesto la parola il consigliere Gianvecchio. Ne ha facoltà, prego. Io volevo introdurre l'argomento sulla base delle proposte che sono state fatte stasera dal vice sindaco Cagliani, che sono condivisibili. Comunque, permettendo che siamo consapevoli che quello delle politiche abitative è un argomento che tutti i comuni si trovano ad affrontare per la grande richiesta di appartamenti provenienti da famiglie con gravi disagi economiche. E' questo fenomeno che prende il nome, secondo me e comunque secondo anche altri studiosi, di vulnerabilità sociale, che deve dire, che devo dire, si distingue dal concetto classico di povertà. Perché la vulnerabilità sociale, intendo quella situazione di incertezza dei nuclei familiari, che non riescono più ad accedere a quei beni primari per sovraggiunti eventi improvvisi, che fanno mutare la propria condizione abitativa, finanziaria e lavorativa, soprattutto il mutamento delle relazioni affettive. Queste condizioni, come sappiamo, sono dovute a diversi fattori. Infatti, le stiamo analizzando anche stasera, spesso, sulle interventi che sono venuti fuori, la perdita del lavoro, il cambiamento di reddito e la ribalta delle relazioni affettive e familiari vengono a mancare a causa di separazioni. Questo è importante. Spesso e ultimamente sono cresciute quelle famiglie che si sono separate. Quindi la povertà che colpisce queste persone, questi separati, che devono trovarsi una casa e devono passare gli alimenti, spesso colpisce la necessità di trovare una casa che possa garantirgli una sopravvivenza. I continui tagli del welfare praticati dai governi, che si sono succeduti, hanno portato sempre più all'intensificarsi di questo fenomeno, che viene lasciato da risoluzione dei comuni. Per far fronte a questa situazione di emergenza è necessario dare una svolta decisiva. Facendo delle programmazioni, sia a lungo termine, che possono portare dei benefici futuri, sia però dare atto a quelle risoluzioni che hanno nell'immediatezza, come previsto nel nazionale Sessore Cagliani. Stasera, risoluzioni che vanno dagli avvisi pubblici finalizzati alla ricerca degli alloggi, a canone calmerato, da destinarsi all'urgenza, e alla promoverazione con l'ALE per i nuovi insediamenti, come faceva riferimento della casa ex plastica, che avendo avuto anche lo che è da parte del Comune, della Regione, si potrebbero costruire, se non vado in lato, sono capito, 46 alloggi. Risoluzioni che, inoltre, ecco, questa è un'indicazione che non è stata tenuta a conto, però secondo me è un'indicazione importante. La considerazione per la programmazione futura dello sviluppo del social housing. Non so se ne avete tenuto in considerazione di questo fenomeno che sta prendendo piede in tutta Europa. E anche il Comune di Milano e il Comune di Torino hanno già avviato questo percorso. Il social housing è ormai un termine diffuso, scusate ma a me piace definirlo edilizia sociale, io sono stufo di queste parole anglofane, spendi review, social housing, mi piace parlare italiano, edilizia sociale, revisione della spesa e queste cose qui. Quando si pensa all'edilizia sociale, si è portati a pensare ad alloggi dati in affitto a famiglie disagiate. In altri paesi questo concetto include anche la proprietà delle cooperative in social housing, ricadono quegli appartamenti che sono realizzati, venduti o affittati a determinate fasce di popolazione secondo regole diverse del libero mercato. Questo è importante perché si dà la possibilità a dalle cooperative in accordo con i Comuni di trovare quelle aree dove edificare a prezzi veramente accessibili anche per le giovani coppie, per le persone che sono comunque in crisi economica. Il social housing è un importante strumento tra il quale con la sua attrazione e diffusione si possono ottenere benefici per l'intera cittadinanza, sia dalla coesione sociale sul territorio, sia dalla partecipazione tra pubblico e privato sul tema dell'abitare equo. Certo che questo argomento merita un'attenzione particolare e dovrebbe essere sviluppato tenendo conto appunto delle esigenze abitative sia immediate che future, con un rapporto sempre più stretto tra pubblico e privato. La situazione che si dovrà creare è frutto dell'emergenza sociale e che è scatturita dalle conseguenze che ho prima menzionato, dovute alla vulnerabilità sociale. Il futuro non è roseo, pertanto andremo sempre più incontro ad esigenze dove siamo chiamati a porre rimedio ed è per questo che una politica attente e futura di programmazione possa portare a risolvere in buona parte la crisi abitativa. Poi, una cosa che comunque ci tenevo a ribadire, che la casa comunque è un bene comune, questo è stato ribadito come concetto da diversi consiglieri che mi hanno preceduto ed è anche, io ribadisco che la casa comunque come tant'altro non è per sempre, cambiano la vita, cambiano i redditi e cambiano anche le persone che ne occupano questi appartamenti. È impensabile pensare che una persona magari viva in quattro locali, è vero che ha un legame affettivo, però magari ci sono esigenze diverse che devono essere assolutamente tenute conto. In più, mi appoggio anche a un cenno che ha fatto la consigliera Pennasi sul fatto di riscattare queste case, inglobando del denaro per poi magari rimetterlo sul mercato. Ecco, queste sono le indicazioni che mi sento di dare e mi sento anche di dover ribattere sul fatto di portare in terza commissione il social ausi, che è uno strumento importante di sviluppo e di previsione futura. Grazie. Grazie al consigliere Gianvecchio, ha chiesto la parola. Il consigliere Tremolato, mia facoltà, prego. Grazie Presidente. Vorrei dare un contributo sulla sollecitazione dell'assessore Cagliani, visto che ci ha sollecitato. Io entro così un po' in punta di piedi in questo tema che è molto complesso e è difficile da trattare per dare uno spunto tra i tanti aspetti di cui è composto il problema e vorrei mettere a fuoco uno. Parto da un dato che ha citato Cagliani. Facendo un conto, sono 950 alloggi, ne vengono liberi circa 50 all'anno, vuol dire che una casa ruota in circa 20 anni. Se togliamo i subentri, ruota in circa 40 anni. Questo vuol dire praticamente a vita. Cosa vuol dire? Il rimedio al problema che stiamo cercando di trattare questa sera non funziona, non funziona più e non è strutturale soprattutto. Cosa succede poi? La prima cosa che siamo costretti a chiedere è il blocco dello sfratto, che è necessario perché siamo di fronte a quel punto a un'emergenza sociale. Ma dall'altro canto va l'ede un diritto di un proprietario della casa. Quindi si scarica quello che è un welfare che si vorrebbe garantire a tutti su alcuni proprietari di case. Non lo si risolve quindi il problema. Lo si tampona creando un altro problema. Questo genera una bassa propensione all'affitto della casa. Questa bassa propensione non si combatte, secondo me, non c'è nessun incentivo che tenga. Se uno è consapevole del fatto che il suo alloggio, che ora in questo momento non gli serve, lo pone in affitto e non è certo che quando ne avrà bisogno ne potrà disporre. Questo crea due distorsioni. Da una parte uno svantaggio per tutti, per proprietari e per inquilini, perché il proprietario è bloccato nell'affitto, per questa rimbora che ho descritto, e chi ha bisogno della casa non vi può accedere. Quindi si crea uno squilibrio nel tessuto sociale. Si crea uno squilibrio anche nel tessuto fisico della città, perché alloggi sfitti vuol dire consumo del territorio. Quindi quella che è la nostra soluzione per tamponare il problema crea una distorsione di questo tipo. Allora mi piace molto invece la direzione della modulazione dello sfratto, che fa parte di un po' di più del governare il problema e non di tamponarlo. Il mio auspicio è che si vada verso la prevenzione dello sfratto, cioè che la politica che il Comune potrà mettere in atto per quello che gli compete, perché ovviamente è un problema molto più grande del Comune, vada verso più un ruolo di garanzia del Comune. Quindi il Comune o l'ente pubblico non sia più solo quello che offre una casa, ma sia quello che garantisce l'abitare. Cosa vuol dire? La parte di offerta di alloggio pubblico probabilmente sarà sempre necessaria, ma questa deve essere una delle politiche, una delle leve che l'ente pubblico ha per governare il problema a casa. Il mettere a disposizione alloggi a canone moderato, tutta la vasta gamma che può essere messa in campo, è una delle leve che l'ente pubblico ha a disposizione. Che quindi secondo me continuerà a esistere. Ma l'ente si deve spostare anche, come il Comune sta già facendo, su per esempio la sublocazione, il sostegno all'affitto. Tutto questo genera un circuito invece virtuoso, perché è così che si combatte la scarsa propensione all'affitto, creando una fiducia nei cittadini. E quindi è vero, e condivido quel discorso che faceva l'assessore, che forse non sono più i tempi in cui l'ente pubblico interviene e risolve il problema, ma ci vuole la partecipazione di tutti. Il Comune però deve fare la sua parte in questo. 15 alloggi messi a disposizione in poco tempo sono sicuramente tanti. Non aumenteranno facendo più pubblicità, ma facendo funzionare l'iniziativa. Cioè, se più cittadini si sentiranno tutelati da quello che è il ruolo del Comune, di Sesto e di tutti gli altri enti, nel rientrare in possesso della loro casa quando ci sarà bisogno, questo schema prenderà piede, secondo me, in maniera preponderante rispetto invece all'offerta diretta dell'ente. Quindi la mia proposta è una sola, il mio indirizzo che vorrei dare è uno solo. Il Comune faccia la sua parte, e continui a fare la sua parte come è stato prospettato, liberando delle risorse, non più per costruire delle case, ma per moltiplicare queste risorse. Cioè, se il Comune ha risorsa per comprare un alloggio, probabilmente non è più tempo per comprare un alloggio, per dare risposta a una famiglia, ma come già viene fatto, gli stessi soldi possono essere messi in un circuito virtuoso di sostegno all'affitto, di manutenzione di alcune case, di divisione a metà. La fantasia in questo degli uffici comunali aiuta perché si dia risposta a tantissime persone e soprattutto ponendo questi soldi a disposizione dell'amministrazione comunale, che sono sempre meno, a garanzia di alimentare quel circuito virtuoso, secondo me la risposta verrà molto più dal privato, ma sarà garantita dall'ente pubblico. Grazie, consigliere Tremonata. Ha chiesto la parola alla consigliera Franciosi. Prego, mia facoltà. Grazie, Presidente. Buonasera. L'argomento in discussione stasera è estremamente importante e aderente alla realtà sociale che stiamo vivendo. Riteniamo che la realtà che stiamo vivendo, cioè quella di mancanza di abitazioni di edilizia popolare o a canone agevolato, non sia altro che l'effetto di una sbagliata gestione del recente passato della pianificazione delle costruzioni sul nostro territorio. Infatti, nei nuovi piani edilizi che sono stati recentemente approvati, manca completamente la pianificazione in questo senso. Negli anni sono stati, secondo noi, erroneamente monetizzati quei metri quadri di abitazione che avrebbero potuto dare una risposta abitativa in questo momento di crisi. Ovviamente nessuno si poteva ipotizzare la crisi quando quei piani sono stati attuati, però il fatto è che non è stato dato ampio spazio a questo tipo di soluzioni. Sarebbe utile capire come quelle monetizzazioni siano state investite. Forse sarebbe stato possibile riutilizzare quei fondi per ristrutturare o rendere abitabili quegli edifici che fanno parte del patrimonio comunale. A questo punto noi torniamo a riproporvi ciò che vi abbiamo immediatamente proposto appena insediati. Fate un censimento degli edifici vuoti, soprattutto quegli edifici vuoti che in teoria dovrebbero essere dedicati ad edilizia libera, in modo da poter dare respiro a questa situazione di crisi. Questa sicuramente non deve essere una soluzione a lungo termine, nel senso che non è possibile togliere al privato ciò che si è costruito, ma può essere sicuramente utilizzato come cuscinetto per far fronte all'emergenza che stiamo vivendo. Sono tanti e su tutto il territorio ci sono edifici in edilizia libera di nuova costruzione che sono vuoti. E questa situazione fa ben capire come la strategia di gestione delle nuove costruzioni sia stata di fatto scorretta. Ci sono case a disposizione che nessuno può comprare, ma ci sono persone che rischiano di rimanere senza un tetto sopra la testa, perché non possono pagare la casa. Questo è un paradosso e bisogna sicuramente agire in tal senso e sfruttare l'esubero abitativo per poter far pronte a questo disagio. E se è possibile, mandare un segnare chiaro anche ai costruttori. Si costruisce edilizia libera solo se c'è la domanda di acquisto. E se le norme non lo consentono, bisogna rivederle, perché non sono più di fatto alerenti alla realtà che stiamo vivendo. Sicuramente la discussione del PGT ormai prossima ci potrà dare gli strumenti per poter rivedere questa pianificazione, anche in termini di edifici vuoti da poter riutilizzare. Speriamo per il futuro che non si ricorra più alla monetizzazione di quei pochi metri quadrati che potrebbero essere realizzati come appartamenti in edilizia popolare o a canone agevolato. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola alla consigliera Landucci. Prego. Grazie. Grazie. Ma io sono molto perplessa stasera, nel senso che chi direbbe che non bisogna trovare soluzioni al problema della casa? Tra l'altro siamo stati invitati da una maggioranza a questa discussione. la consigliera Franciosi ha appena detto che è un tema così sentito. Devo dire infatti che gli spalti rigurgitano di cittadini interessati al problema. Vedo che veramente abbiamo folle furibonde che stanno cercando di capire. È chiaro che questa discussione è stata voluta e costruita come dire ad uso delfini, cioè ad uso politico. perché quando i problemi interessavano i cittadini i cittadini sono venuti. Noi sappiamo tutti che c'è stata l'occupazione di cui parlava mi pare il consigliere Nossa prima di una casa poi di un'altra. Direi che sui media della città se ne discute. Io pensavo stasera di vedere qualcuno degli non inquilini che tanto si agita. Non c'è nessuno. Cioè, secondo me c'è una totale discrasia tra le cose, no? Siamo un po' schifociati zoffrenici stasera. Ci parliamo tra di noi dicendoci tutti le stesse cose, no? Perché chi ha? Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire vogliamo la gente per strada. No. Chi mai direbbe che vuole la gente per strada? Che dorme, no? Vogliamo dire che non è un problema quello dei padri separati. Sì, c'è un problema. È un problema no, com'è la l'amorosità come si chiama? L'amorosità incolpevole. Eh? Incolpevole. ecco, c'è che adesso benissimo. Ma il problema vero è stasera stiamo facendo questo perché cosa? Per votare quest'ordine del giorno di cui parleremo che ha al centro la richiesta dunque sul tavolo metropolitano perché io leggo perché non si possono leggere queste cose star qui tre ore del nostro tempo. Cioè veramente a parlarsi addosso sul tavolo metropolitano esiste una nostra richiesta nostra del comune fatta alla quinta commissione regionale quindi su un tavolo esiste una richiesta di istituire un tavolo allargato cioè il tavolo metropolitano non essendo sufficiente abbiamo fatto una discussione allargata stasera per istituire un tavolo allargato che sicuramente risolverà i problemi abitativi cioè è chiaro che il problema è complesso è chiaro che ci abbiamo mangiato sopra tutto quello che si poteva mangiare no? compreso il fatto che i comuni hanno dato certo che hanno dato i permessi per costruire alla CETA perché ognuno cerca di avere le risorse dove può i comuni hanno come unico leva per fare soldi le ionere di urbanizzazione e quindi hanno cementato l'Italia tutta questa cioè io non parlo neanche eventualmente delle corruzioni ma secondo me il problema è questo i comuni hanno un unico mezzo per ottenere oneri che servono a portare soldi quella della costruzione e quindi danno i permessi perché se no non arrivano soldi in più con cui fare il bene del popolo dopodiché questo naturalmente ha portato a un terribile consumo di territorio io sono terrorizzata all'idea di costruire ancora cioè ormai però costruiamo sopra il Duomo di Milano perché ormai non c'è più spazio quindi direi che dobbiamo forse fermarsi un attimo perché ha ragione l'assessore quando dice dobbiamo cambiare il sistema è chiaro che non si può più pensare di continuare secondo un sistema che ha inventato dopo il 1925 e il 1930 Mussolini buonanima perché è chiaro che il sistema delle case popolari ha inventato Mussolini così come noi l'abbiamo ereditato e preso perché prima c'erano soltanto i paternalismi delle grandi aziende che facevano i villaggi operai quindi la Falca piuttosto che Crespi Darda io sono cresciuta nei villaggi delle miniere in cui in cui la Montecatini prima la Montedison dopo dava le case faceva ma queste case qui erano di proprietà della società che le girava i propri dipendenti io ho girato per 15 anni le case che non erano nostre che erano della società che le dava a rotazione fin quando le miniere hanno chiuso dopodiché invece Mussolini che era molto statalista molto statalista di mentalità ha detto no non lasciamo ai privati questa cosa facciamo noi e sono nate le case popolari infatti le prime case popolari sono tutte degli anni 20 stile razionalista l'ultimo stile civile di questa nazione dopodiché dopo la seconda guerra mondiale è venuto fuori di tutto una tragedia architettonica ma questo è un altro discorso ma è chiaro che non si può continuare così è chiaro che il sistema era diverso ed è chiaro che oggi io vi voglio vedere andare a prendere quelli che sono nelle case popolari a tirarle fuori perché ci hanno l'ise troppo alto auguri buon viaggio vi auguro di uscire vivi da quei cortini delle case popolari che non vi mangino vivi perché qui in Italia dall'epoca di Mussolini e dal dopoguerra ci si è convinti che nel momento in cui uno prendeva la casa popolare non la mollava più e adesso è passata pa, nonni, padri figli sono convinta che ogni volta che muore l'ultimo novantenne che sta nella casa popolare sicuramente ci saranno due nipoti che stanno già con lui perché così hanno il diritto di subentro a meno che non siano diventati mediatari ma secondo me sarebbero dentro lo stesso io vorrei che l'assessore ci facesse un elenco di quanta gente è mai uscita dalle case popolari io ho parlato un pomeriggio che ero al circolo tenebiaco con una persona che è lì al circolo tenebiaco e che è dal 1954 in una casa popolare chiede che è in centro perché è via magenta e lei dice io ho sempre pagato ma certo che ha sempre pagato ha sempre pagato chiaramente una cifra assolutamente fuori mercato ma l'idea che uno gli potesse dire adesso eravate in quattro sei rimasta da sola adesso veniva fuori la rivoluzione ma fatelo pure perdete il 70% dei voti quindi non si fa questo non perché non si sia capaci ma perché chiaramente si ha paura si ha paura delle conseguenze elettorali perché se solo vi azzardaste a dire togliamo quelli che hanno gli anziani che stanno in quattro stanze da 40 anni li mettiamo in un monolocale di forza quello non vi vota più e qui non lo fate per questo cioè cerchiamo di essere realisti un momento perché se no ci raccontiamo le novelle di Bucchettino sono le 11 e un quarto abbiamo tutti lavorato da stamattina alle 8 fino alla sera alle 7 ci possiamo dire un attimo la verità che senso ha davvero siamo qui a contare il tavolo allargato sul tavolo metropolitano sicuramente sarà una soluzione mirabile stasera questo giochino io vorrei prima o poi sapere dalla dottoressa Orzetti cosa costa un giochino di questo genere cosa costa fatto per niente non c'è nessuna soluzione io pensavo di vedere i cittadini non ce n'è uno ma allora parlate di cosa pensate di fare col palazzo dell'Alitalia con l'occupazione dell'Alitalia con l'occupazione dell'ex impregilo in cui ci sono moltissimi cittadini che postano su facebook le fotografie sotto delle schifezze che sono state lasciate mentre invece gli altri quelli che sostengono l'occupazione che dicono noi vogliamo fare un residence sociale penso che sia del tutto illegale non lo so però parliamo di cose realistiche perché è questo che ci ha spinto immagino che il problema è venuto fuori per via di queste due occupazioni guidate dall'Unione Inquilini e dagli altri sono associazioni crociare alla riscossa e così via altrimenti cosa ci diciamo che vogliamo graduare gli schiatti ma le graduano già perché l'ha detto chiaramente l'assessore ma quale come dire quale ufficiale giudiziario arriva e parte in mezzo alla strada appena arriva una famiglia con bambini ma nessuno cioè non esiste queste cose qui non esistono in Italia da almeno 50 anni si graduano fin quando è certo fin quando è possibile perché è chiaro se tu stai in una casa privata e sono tre anni che non paghi un euro d'affitto cioè anche quel povero proprietario di casa non è che l'opera pia bonomelli cioè per quanto potrà sostenere il bisogno sociale da solo nel frattempo speriamo che lo sfratto esecutivo glielo abbiano dato e ci paga anche le tasse sui soldi che non prende perché è così il sistema tu fin quando non hai lo sfratto esecutivo sei obbligato a mettere nella dichiarazione dei redditi i soldi che non hai preso perché hai un contratto ufficiale poi nel frattempo naturalmente tutti sappiamo che nella zona di via Marconi ci sono locazioni a una persona in cui ci sono dentro 40 persone ma non gratis ognuno di questi paga 500 euro il posto letto all'inquilino ufficiale che normalmente è un connazionale che così si trova un ottimo reddito su cui giocare quindi cioè allora ci sono problemi molto seri che secondo me di cui si potrebbe forse parlare meglio questo è proprio un argomento da commissione non da consiglio però anche lì relativamente perché noi non abbiamo questi qui sono i poteri della magistratura sono i poteri della polizia dell'ufficiale giudiziario forse del prefetto ma noi cosa possiamo fare forse dobbiamo cominciare sono contenta di sentire che ora anche da quella parte lì si comincia a parlare di quello di cui noi parliamo da dieci anni cioè di affittare le case dai privati direttamente come comune per dare la rotazione per cui cominciare a pensare di dare le case a riscatto perché quello che rende insostenibile l'Aler è la manutenzione dei palazzi dell'Aler che fra poco crollano in testa gli inquilini che ci stanno dentro perché senza manutenzione straordinaria non si fa nulla e la manutenzione straordinaria è quella che sta ammazzando l'Aler sotto una a parte che l'hanno anche rubato sicuramente però anche senza rubare è chiaro che è la manutenzione straordinaria che rende impossibile la gestione di questo patrimonio che ormai non è un patrimonio è un debito quindi io dico che veramente queste cose qui e adesso lo speriamo di finire in un tempo ragionevole meno male che il Presidente ha detto prima di mezzanotte quindi discutiamo questione del giorno che lo votate lo votate andate via con la coscienza tranquilla non è cambiato nulla naturalmente perché non possiamo far cambiare nulla ma l'idea di fare un tavolo allargato rispetto al tavolo metropolitano sicuramente vi allargerà il cuore ma mi lascia molto perplessa però io sono molto cinica e cattiva secondo me però voi invece sarete felici di votare perché tutto si riduce alla votazione di quest'ordine del giorno cioè se questo vi fa felici benissimo ci è costato un po' di tempo fatica e denaro ma come dire nella somma di una vita umana ci può stare grazie alla consigliere Landucci ha chiesto la parola il consigliere Foggenta prego allora io vorrei ricordare che la qualche settimana fa pubblico sugli spalti c'era poi la discussione è stata rimandata e questa sera non sono venuti ma qualche settimana fa sul tema casa il pubblico c'era e c'era anche in abbondanza passando ad altro poche settimane fa la rivista Time ha pubblicato un lungo intervento su Marx definendolo un profeta e dicendo che gran parte delle sopravvisioni si sono avverate perché dico questo va bene ho detto la rivista Time non ho detto lotta comunista ci tengo a dirlo visto che vedo dibattersi di là ora oggi parliamo quindi di un problema che non è solo se stese ma che riguarda gran parte del di quel mondo che soffre di questa crisi economica che è partita nel 2009 guarda caso con proprio sugli affitti scusate sui mutui e quindi proprio sul tema casa parliamo di questo problema che non è l'esito della crisi di un sistema ma una delle naturali conseguenze scusatemi una delle naturali conseguenze di questo sistema che stiamo vivendo oggi nel sistema capitalistico il sistema capitalistico si basa sull'accumulo di capitale in un sistema del genere c'è chi ha ci sono i multimiliardari paffuti e ci sono persone che un tetto sopra la testa non ce l'hanno e che quindi la sera stendono dei cartoni a terra e si mettono a dormire lì in questo contesto l'Italia porta poi la solita bandierina dei primi della classe in Italia questi miliardari paffuti non si limitano a ingerenze nella politica ma molto spesso diventano loro stessi politici e non parlo solo dei casi che da vent'anni ci portiamo dietro ma di casi che vanno da destra a sinistra in modo trasversale sopra e sotto siamo ribadiamo anche sempre di essere il paese dei paradossi il paese dei paradossi dove c'è un qualche tempo fa è stata trovata a Roma è stata individuata a Roma una contessa non credo abbia titoli nobiliari ma mi piace chiamarla così per canzoni di altri tempi padrona di 1250 appartamenti di cui il fisco non conosceva non aveva idea che non rischia un giorno di galera quando invece uno di quelle persone che dicevo prima che si stendono sui cartoni quando uno di questi decide di occupare uno spazio di questi paffuti miliardari rischia di essere manganellato e di essere portato nelle galere che la signora la contessa di qui sopra non vedrà mai con questo io non voglio non mi interessa proprio giustificare occupazioni e quant'altro è illegale ma come ho già detto più volte non ho perso occasione per dirlo e come come dico anche stasera è vero ci sono forme di illegalità poi ci sono crimini per quanto mi riguarda questo è un parere personale il crimine i crimini sono abbandonare spazi di una portata come quelli che sappiamo in mezzo a centri di città in mezzo a punti fondamentali delle varie città questo secondo me è il crimine abbandonare questi spazi senza pensare a quello che succede a quello spazio a quell'area della città e senza pensare alle persone che un tetto sopra la testa non ce l'hanno quindi chi ci deve pensare a questa emergenza chi ci deve pensare a queste persone i comuni lo Stato noi diciamo sì e no nel senso che nel senso che nel migliore dei mondi possibili dovrebbero essere altri a pensarci dovrebbero essere quelle persone che questi spazi rilasciano in quel modo poi non è il migliore dei mondi possibili quindi ringraziamo l'assessore Cagliani per il piano e per le proposte che l'assessore Cagliani e tutto l'assessorato e tutti gli assessorati precedenti perché ricordiamo Sesto è una delle città nell'Inter l'an milanese nella regione che fa di più per questo tipo di emergenza per questo tipo di emergenza casa per quanto ci riguarda secondo noi i sussidi pubblici dovrebbero essere utilizzati per per pagare per sì per coprire quelle spese che se non pagate andrebbero a gravare su altri su altri su altri cittadini su altri abitanti dei palazzi ad esempio mi viene in mente ci viene in mente le spese condominali questo dovrebbe servire dovrebbero servire secondo noi i i sussidi pubblici che cosa servirebbe allora che cosa dovrebbe esserci che non c'è purtroppo in Italia e in tutto questo mondo occidentale uno stato forte che dica a questi a questi miliardari che sono loro che primi tra tutti si devono fare carico di questa emergenza serve uno stato che dica che in un momento come questo gli sfratti non devono essere rimandati ma devono essere bloccati in particolare quegli sfratti che sono legati a grandi organizzazioni alle banche alle fondazioni alle assicurazioni e agli enti simili ricordare a questi che il periodo è quello che è anche come dicevo prima per la negligenza e l'avidità dei sistemi che loro stessi sostengono e rappresentano quindi si fermino un istante fermino un istante la loro voracità dopo essere stati foraggiati per anni e capiscano quello che forse andrebbe fatto per non pesare è troppo facile pesare continuare a scaricare questo tipo di problemi alle varie amministrazioni il governo deve prendere la legge 431 del 98 e ribaltarla completamente è una legge che è stata promulgata in un periodo in cui anche noi eravamo al governo questo non non lo nego non posso nasconderlo però ammettiamo ammettiamo che è stato sono stati fatti degli errori ammettiamo che è una legge completamente sbagliata lo ammettiamo cosa che non sta facendo nessuno negli ultimi anni non fa nessuno quindi di chi è la colpa chi sta sbagliando in questo contesto non si sa sembra quasi che a sbagliare siano le persone che rimangono senza casa le persone sfrattate le persone che come diceva l'assessore Cagliani arrivano anche a gesti più più cruenti più di cui si parla perché evidentemente si parla solo in quei momenti a questo sì a questo sembrano portare tra l'altro le dichiarazioni dei vari ricchi dei vari miliardari di cui parlavamo prima tant'è che qualche giorno fa un giovane rampante di nome John Elkan ha ricordato che se i giovani in Italia non trovano lavoro è perché stanno troppo bene a casa loro io lo ammetto starei molto meglio che a casa mia a casa sua poi se lui vuole uno scambio lo faccio tranquillamente sesto che cosa deve fare sesto e i comuni che cosa devono fare quindi sesto deve i comuni devono pressare le proprietà di questi stabili di questi stabili cosa che è già stata fatta e che si sta facendo che si sta facendo però deve fare con più forza e con ricordando loro che basta è finito il tempo in cui si poteva fare tranquillamente il buono e il cattivo tempo ricordare loro che no allora è nelle possibilità teoriche quello la possibilità dei comuni di requisire stabili è nelle possibilità teoriche non è di sicuro nelle capacità effettive non non mi guardi con quella faccia assessore però c'è anche c'è anche l'articolo la possibilità un'altra possibilità che risiede in articolo 7 della legge regionale 4 che permette a un comune di dire alla proprietà a questi proprietari di cui parlavamo prima sai che c'è da domani quell'area diventa un'area adibita verde da domani quell'area diventa anzi forse meglio un'area adibita un'area da funzione sociale e mo scusate parlo un po' come parlerei a casa mia e mo che fai caro il mio proprietario di stabili in centro a Milano poi c'è da ricordare che magari vista la situazione in cui si sono ritrovati certi stabili una telefonata all'aslo potrebbe fare anche loro molto male quindi o ti muovi tu proprietà o pensiamo noi per te un'altra cosa che si dovrebbe fare è secondo noi una telefonatina una telefonata sembra che si possa risolvere tutto con delle telefonate questa sera una telefonata a Milano per ricordare loro che anche questo come diceva prima l'assessore Cagliani si sta facendo l'interlocuzione continua però ricordare loro che l'Expo deve essere una possibilità per gli abitanti di Milano e non una condanna una forza centrifuga per cui chi in un modo o nell'altro chi è chi è un peso chi è un problema ne viene fuori bisogna ricordare a Milano questo ci tengo a dirlo visto anche il campo nel quale lavoro bisogna ricordare a Milano che io non sono Marx quello che si diceva prima un veggente un profeta ma io ad occhio e croce saprei dire adesso che anche nel 2015 farà freddo quindi l'emergenza freddo in quanto tale è proprio un errore nei termini una contraddizione nei termini e all'emergenza freddo se si vuole chiamare così non si può rispondere aprendo le pensiline della metropolitana specie se ci sono 5 mila alloggi sfitti su questo vorrei ricordare che è notizia degli ultimi giorni dalla vendita di una parte di A2A stanno entrando nelle casse di Milano tra i 60 e i 70 milioni e una proposta di Sinistra per Pisapia di Selle di alcuni consiglieri del PD è quella di utilizzare questi 60 e 70 milioni per rendere agibili questi 5 mila appartamenti io spero che la Giunta sappia ascoltare questa proposta l'ultima richiesta l'ultima cosa che può fare che può fare sesso è quella appunto che si sta facendo io ribadisco sottolineo le cose che probabilmente l'assessore Cagliani ha già detto è quella di chiedere alla prefettura di bloccare gli sfratti e questo va fatto lo dico per sottolineare a sottolineare scusate a maggior ragione la conclusione di quello che diceva l'assessore Cagliani questo va fatto con noi con le forze politiche tutte sotto le finestre della prefettura perché questa non deve essere una lotta di questa parte di quella parte o di quell'altra deve essere una lotta di tutti una lotta questo termine vetusto di tutti quanti certo è giusto dire anche che vanno va scremato il mucchio dei furboni dei furboni che possono ma non pagano dei furboni che hanno una casa comunale a sesto e poi un'altra casa tranquillamente a io mi ricordavo 50 km però mi dicono 70 scusate ho sbagliato sbaglio anche io molto spesso come sapete grazie in virtù della legge 27 di cui si parlava prima poi c'è da ricordare alla regione che per i vari piani sono state stabilite sono stati firmati i protocolli per l'edilizia pubblica quindi è ora di tirare fuori mettere mano al portafoglio e cominciare a finisco dicendo che sono mille quindi le cose che si possono fare si possono continuare a fare quelle che già si stanno facendo ribadendo e ricordando a tutti ma nessuno qui può negarlo che sesto è come dicevo all'inizio la città che più sull'emergenza casa fa e continuerà grazie 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 consigliere Foggetta ha chiesto la parola consigliere Pietro nella facoltà sì grazie presidente sarò molto veloce perché in parte il compagno Foggetta mi ha detto delle cose che quindi inutili che ripeta soprattutto nella prima parte del suo intervento nella seconda parte mi sono un po' persa ma credo per distrazione mia io sono una sessantenne che 40 anni fa gridava la casa è un diritto l'affitto è una rapina allora si diceva mandiamo gli agnelli a vivere in cantina ed ero convinta politicamente che l'affitto dovesse costare essere il 10% dello stipendio di una persona e in coerenza perché ho sempre cercato di essere coerente con queste cose non ho mai acquistato una casa trovandomi poi in serie difficoltà e in precariato in età ampiamente adulta con le ansie guardata un po' come una marziana quando affermavi che non avevo una casa di proprietà perché ritengo se devo proprio guardare un articolo della Costituzione per il diritto alla casa io guarderei la seconda parte dell'articolo 3 quello che recita che lo Stato deve elevare gli impedimenti per lo sviluppo lo sviluppo della persona per i diritti eccetera e quindi ho una mia precisa posizione sul diritto della casa io credo che questa crisi stia dimostrando tutta la crudeltà proprio sulla questione casa del mercato e io dico anche del libero mercato cioè laddove a pagare poi sono gli ultimi a volte spesso i più onesti quelli che magari hanno sempre pagato le tasse ricordava bene Foggetta che la grossa crisi è partita proprio su speculazione sui mutui con arricchimenti da parte di pochi e con un gioco confusionario di vendita di mutui di acquisto di mutui eccetera ecco non sto a ripetere credo che ciò che sta facendo il comune di Sesto sia una cosa importante e raccolgo sicuramente l'invito della consigliera Iosa e di altri consiglieri di discutere approfonditamente in commissione mi è testimone l'assessore l'avevo anche chiesto di recente all'assessore di parlare ancora della casa in terza commissione anche perché credo alcune cose che sono state dette sono giustizie però credo che ci voglia una grossa riflessione sulla casa perché la casa è una cosa importante di una persona non è solo il tetto dove ti rifugi sei anni da una parte fa parte della tua vita dei tuoi ricordi della tua affettività e credo che il poter ricordare una casa propria o amare la propria casa sia diritto di tutti e non solo dei miliardari di cui parlava Foggetta prima grazie grazie la consigliera Pietra se non ci sono più inter chiesto la parola il consigliere Capone grazie presidente io direi che questa sera sono emerse una serie di considerazioni e di riflessioni assolutamente condivisibili però a mio parere quello che manca è un po' un segnale di concretezza cioè non ho visto delle proposte risolutive in effetti l'ordine del giorno mi sembra più una questione politica ideologica non penso che possa portare ad una soluzione parziale perché lo dico innanzitutto a mio parere dobbiamo accentuare la battaglia sulla modifica dei parametrizi della legge regionale che veramente è insostenibile perché vuol dire andare a acclarare una situazione di vantaggio per persone che hanno comunque una capacità di reddito e questo va a penalizzare delle persone che in effetti hanno bisogno della casa e quindi questo mi sembra che sia una battaglia che dobbiamo condurre uniti tutto il consiglio comunale quindi come altre volte sono state proposte delle mozioni per non so mi viene in mente la corrisponsione delle somme per la biblioteca io penso che potrebbe essere un segnale forte se ritenete opportuno la maggioranza anche quello di firmare tutto in documento dove evidenziamo questa discrasia ma questa anomalia ma soprattutto questa ingiustizia perché 35.000 euro di parametro come solle a Ise vuol dire una persona che ha circa 50.000 euro di reddito voglio dire 60 stiamo parlando di persone che hanno una certa capacità di reddito quando abbiamo delle situazioni in effetti di assoluta indegenza e di difficoltà economica quindi mi sembra che questo sia una delle prime cose da fare giustamente l'assessore diceva che la casa comunale deve essere un momento di accompagnamento e non deve diventare un diritto acquisito beh io condivido questa indicazione però anche è vero che e lo dico anche nell'esercizio della mia professione noto che ci sono come diceva il consigliere Foggetta parecchi furboni cioè oggi la casa popolare la casa del comune la casa dell'Aler spesso ambita da persone che hanno poco scrupoli rispetto delle famiglie delle persone che magari se ne fanno di parecchie e avrebbero magari titoli parlo ad esempio per quanto riguarda gli stratti per morosità cioè stratti per morosità dove sono delle morosità a volte volutamente create cioè delle morosità dove le persone chiedono ai proprietari di di introdurre una convalida di di stratti per morosità per avere i titoli per accedere alle gradatorie beh io credo che questo sia un fenomeno di malcostume da combattere in maniera ferma e decisa assessore perché se diventa un costume ahimè io non vorrei essere nei suoi panni perché a mio parere questa questa forma di questa scorciatoia si sta sempre più amplificando io sono riduce da un incontro con dei clienti qualche settimana fa dove mi dicevano che il loro inquilino gli ha detto mi faccio lo sfratto paghiamo noi addirittura quello che è la causa di di convalida perché possiamo avere i titoli cioè siamo arrivati a questo punto quindi è un fenomeno è un fenomeno marginale però ci sono anche altri aspetti che a mio parere meriterebbero delle proposte più dirette e concrete e mi riferisco al problema della verifica dei criteri e di permanenza delle persone assegnatarie cioè se veramente vogliamo fare una battaglia d'equità e di giustizia e combattere i furbi che tolgono dei diritti a delle persone che effettivamente hanno delle difficoltà io penso che innanzitutto occorre mettere in atto una politica attenta puntigliosa e meticolosa da parte dell'ufficio che probabilmente già lo faranno immagino l'ingegnere Zuccoli ma ancora più accentuata su quelli che sono i criteri di permanenza dei soggetti assegnatari delle locazioni e poi un problema anche di manutenzione perché spesso vengono resi degli appartamenti completamente distrutti perché non ha cosa propria e costano alla comunità tant'è che l'assessore riferiva e anche qua purtroppo l'ho visto per esperienza personale di alloggi che non possono essere oggetto di ristrutturazione per carenza di fondi che potrebbero essere messi a disposizione di soggetti che non hanno bisogno che non sono stati rilasciati in condizioni disastrose da precedenti assegnatari ecco e poi un ultimo tema a mio parere da dover affrontare quello relativo anche ad eventualmente se vuoi depositare noi depositiamo un ordine del giorno sulla base dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza che tocca proprio questi temi concreti il problema è delle dismissioni perché è un argomento che magari potremmo anche affrontarlo in maniera diretta credo che analizzare e vedere se ci siano le possibilità di realizzare e quindi consentire alle persone assegnatari che hanno il requisito ovviamente della propria casa e rimettere nel circuito virtuoso dei soldi per dare altre abitazioni sia importante ecco su questo aspetto io disento un attimino dagli ultimi interventi perché la casa è un diritto sicuramente è un diritto di tutti però è un diritto di chi ha effettivamente necessità perché ci sono anche delle persone soprattutto anziani quelli che hanno investito la liquidazione di una vita di lavoro che anziché tenere i soldi fermi su un conto corrente oppure in una rendita finanziaria cosiddetta passiva hanno investito in mattoni sia per una questione di rivalutazione che anche una questione di reddito io credo che devono essere anche loro tutelati e garantiti anche apprezzati perché hanno avuto la forza e il coraggio di mettere i propri risparmi a vantaggio della comunità di chi non ha la possibilità di acquistare la casa quindi quando si dice è un diritto di tutti io credo che vada anche un po' vista questo diritto dei proprietari perché di fatto una persona che decide di mettere la propria liquidazione io non parlo delle grandi proprietà ma parlo delle persone comuni e io ne ho visti tanti sempre nel percorso professionale anziani che magari prese la liquidazione la moglie e il marito con i vecchi 150-100 milioni di lire e qui stavano un mi locale lo mettono a reddito loro arrotondano la pensione quindi il rischio è che le morosità non incolpevoli ma le morosità volutamente cercate creano ulteriori disagi e anche danni economici a delle persone poi che spesso sono una categoria debole come quella degli anziani che faticano a loro volta a pagare le ristrutturazioni a pagare l'IMU e comunque far fronte a quelle che sono le spese magari della famiglia le spese mediche ecco è un argomento veramente delicato quello della casa che non penso si possa esaurire in una serata di consiglio comunale e merita uno o più passaggi in commissione e poi credo che dobbiamo sviluppare tutti insieme visto che è un argomento non solo politico ma che riguarda la comunità una serie di proposte che possano in effetti rilanciare il tema il tema della casa perché se proprio devo durla tutta ma non è assolutamente una questione polemica mi fa specie sentire dire che il comune di Sesto ha svolto una politica attenta negli anni precedenti al tema della casa primo perché abbiamo avuto delle grandi aree e disposizioni utilizzate per vent'anni che avrebbero potuto benissimo adempire a questo scopo e oggi se ci troviamo con questa emergenza vuol dire che in effetti la politica precedente non è stata sufficientemente idonea non è un'accusa ovviamente è una proposta per migliorare sempre di più una politica sul tema della casa che non deve essere di parte ma ovviamente deve coinvolgere le intere forze politiche del Consiglio Comunale Grazie ha chiesto la parola il consigliere Rivolta Sì cercherò di essere breve io credo che indipendentemente da quello che noi questa sera possiamo discutere e possiamo aver messo in campo in termini di proposte le azioni che l'amministrazione comunale svolge sono molte variegate e come dire anche fantasioso se vogliamo a una certa misura il dato vero è che nonostante questo sforzo che è lo sforzo che è nelle possibilità di un'amministrazione comunale il problema della casa è un problema serio che la crisi ha reso più tragico e crudele e che mette a nudo come dire l'impossibilità solo per come dire l'impossibilità di un'amministrazione comunale con le singole azioni che può promuovere di risolvere questa cosa ecco perché consigliere Caponi dire che le politiche degli ultimi vent'anni sono sbagliate altrimenti non ci sarebbe un problema non parte da un dato della realtà il problema a casa è un problema che attraversa tutti i comuni d'Italia e che casomai nella città di Sesto San Giovanni ha come dire un picco di difficoltà diverso è minore rispetto a altre situazioni è una delle questioni che i sindaci hanno posto in queste settimane al Presidente del Consiglio l'emergenza a casa perché in tutta Italia questo programma c'è e guardi pensare che la soluzione fosse nella trasformazione delle aree vuol dire ripercorrere e in questo nonostante non condivida l'impostazione della consigliera Landucci e permettetemi di dire anche la rozzezza con cui ha affrontato il dibattito ma una cosa giusta la dice non è costruendo più case che si risolve il problema non è costruendo più case perché in questa città ci sono molte case sfitte in Italia in questa città e ovunque anzi mi verrebbe da dire che la quantità di case che sono state costruite fino a un certo punto in questo paese hanno contribuito a non risolvere il problema perché hanno spinto una vicenda di aumento dei prezzi tale da mettere in difficoltà come dire le famiglie italiane solo adesso negli ultimi due anni noi assistiamo a un come dire decremento dei prezzi delle case quindi la soluzione non è costruire più case anche perché altrimenti come dire non si capisce qual è lo spettro di interventi che si devono fare come dire perché io capisco che va bene ci sta la polemica politica quindi bisogna attaccare l'amministrazione comunale però non si può mettetevi d'accordo ma o anche che no siccome però mi sembra di capire che state firmando un ordine del giorno insieme la consigliera Franciosi invece criticava fortemente le politiche che hanno sviluppato in maniera come dire esagerata il territorio sostese e quella cosa non sta insieme all'idea che è come dire il blocco delle aree che lei continua ostinatamente a dire duri da vent'anni ma non dura da vent'anni è uno dei problemi è stata facciamo un passo in avanti se prendiamo atto che questo è un problema di livello nazionale e che noi abbiamo pochissime armi abbiamo un patrimonio molto grande abbiamo messo in campo tante cose ma questa cosa non come dire non porta alla soluzione del problema consigliera Landucci sarà anche vero come dice lei che non arrivano gli sfratti ma l'assessore Cagliani ha parlato di 150 sfratti quindi sarà anche vero che arrivano dopo tre anni ma ci sono 150 famiglie che hanno perso la casa e quindi che sono state sfrattate lei sa tutto evidentemente sa tutto e per questo ha trovato il consiglio comunale inutile invece altre hanno trovato il consiglio comunale come un'occasione per intervenire per fare delle proposte lei naturalmente di proposte non ne ha fatte non si capisce come pensava di governare questa città visto che non fa mai consigliere Randucci l'unica cosa che rimane sempre agli atti è la sua maleducazione la sua rozzezza e la sua maleducazione è cortesia mi scusi parlare di giochino e di strumentalizzazione quando questo consiglio cerca di dibattere con argomenti più o meno seri di chi è intervenuto con proposte come dire è la cifra della qualità del suo del suo stare in questo io sono maleducato ma lei ci ha insultato per dieci minuti per il consiglio comunale che abbiamo promosso lei ci ha insultato per dieci minuti per l'idea che abbiamo avuto di promuovere questo consiglio senza fare alcuna proposta consigliere Randucci lei lei oramai come dire è un film l'altra volta lei è venuta a dire che il Cine era una roba che riguardava la sinistra se la vedono loro il Cine è una costola del PIM che è stato fondato da Bassetti quando era presidente di regione Lombardia un democristiano e il Cine ha un'origine precisa sì esattamente è quella roba lì è quella roba lì fa parte dei piani e delle come dire degli interventi sulla casa costruite dai governi democristiani degli anni 60 in regione Lombardia e nel paese si chiamavano piani fanfani al mio paese le case fanfani ci sono in tutti i paesi quando questo paese aveva una politica abitativa seria quando anche nel mio paese in 5000 arrivarono da Campobello di Licata per lavorare all'Apodo Bianchi e come dire alloggiavano nelle palestre delle scuole pubbliche misero in campo una serie di politiche questo per dire che in questo paese manca da oramai vent'anni trent'anni una politica della casa come dire di livello nazionale che non può essere non può e non deve andare nella direzione di costruire ancora è evidente perché se c'è una cosa che non manca in questo paese sono le case e i capannoni e i capannoni bisogna ringraziare Tremonti come dire che è con cui una legge scellerata ha riempito di capannoni inutilizzati in nostro paese consumando suolo e poi ogni tanto bisogna anche dire a chi stanno le responsabilità risucchiando le ultime risorse di un paese già alla canna del gas che avrebbe potuto investire in innovazione tecnologica per fare capannoni inutili perché voi ci diciamo che negli ultimi vent'anni i due piani casa di Berlusconi sono stati un fallimento diciamocelo perché non è che poi il Comune di Sesto da solo contro tutti cerca di sconfiggere il problema e le questioni abitative è venuta a mancare una politica nazionale rispetto all'abitazione per chiudere io credo che da questa serata che io trovo utile perché c'è stato comunque ci sono state delle proposte si debba proseguire in un lavoro in commissione non vorrei dire che all'inizio della consigliatura in virtù di una vicenda in cui si nominavano dei membri all'interno di una commissione dissi facciamo un percorso in commissione tutti insieme che arriva alla definizione di queste cose perché se è stato richiesto questo consiglio è perché la gravità del problema è tale che forse merita l'attenzione a partire da un consiglio comunale a partire dalla commissione se si parte dalla commissione ci chiedete di partire dal consiglio comunale se si parte dal consiglio comunale si chiede di partire dalla commissione diciamo che questa sera abbiamo fatto il consiglio e che nelle prossime settimane si calendarizziamo una serie di come dire prima di tutto probabilmente di ulteriori dati io non ho capito per esempio ma non è polemica se la consigliera franciosi si riferiva agli edifici pubblici sfitti o a quelli privati non ho capito realmente quando nel suo intervento no ok ok si riferiva ai privati no 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 non avevo capito si può anche non capire io in genere lo ammetto quando non capisco ok anche perché in comuni non c'è un appartamento di sfitti appunto esatto perché gli edifici pubblici sfitti no beh guardi Aler Milano ha pieno di edifici sfitti a Milano perché poi vogliamo anche parlare di Aler possiamo anche parlare di Aler è vero che Aler come dire soccombe rispetto ai costi della ristruttura delle come dire delle manutenzioni soccombe anche rispetto a una gestione scellerata di questi anni che a un certo punto è esplosa con un debito gigantesco e Aler non la controlla il comune di Sesto San Giovanni per esempio perché tutto va bene ma Aler non la controlla il comune di Sesto San Giovanni la controlla regione Lombardia allora votiamoci i nostri ordini del giorno facciamo quello che dobbiamo fare che appartiene vorrei dire che abbiamo passato una sera a discutere due emozioni di cui una condivisa quindi il fatto di consigli comunali di costi di tempo perso poi possiamo anche aprire un dibattito però insomma ognuno ha fatto la sua parte quindi chiudiamo la discussione stasera cerchiamo di riportare in commissione e cerchiamo di capire se si può produrre in proposte concrete rispetto al livello regionale rispetto al livello nazionale e ancora se esistono delle azioni da mettere in capo sul territorio comunale grazie mi ha chiesto la parola prima per fatto personale alla termine del dibattito consigliere Randucci adesso a chiusura se l'assessore vuole intervenire proprio cinque minuti che poi trattiamo gli ordini del giorno grazie cinque minuti è proprio un tempo strettissimo perché ho preso un po' di appunti allora vediamo sono le 23 e 51 e mi atterrò al tempo indicato dal presidente beh io è un po' di tempo che sono in questo consiglio comunale se i consigli comunali dovessero essere fatti sulla base della presenza del pubblico penso che ne avremmo fatti un quinto in questi ultimi anni perché al di là di alcune serate che potrebbero essere dieci nell'arco dell'anno non c'è quasi chiedo scusa ai presenti non c'è moltissima gente quindi non è quello il metro di paragone con cui si fanno i consigli comunali primo secondo ma continuiamo a dirci che la politica deve riacquistare una sua credibilità a parte gli atteggiamenti personali che dovrebbero essere rispettosi nei rapporti reciproci ma rispettosi soprattutto di questa aula che è costato lacrime e sangue a chi ha difeso la democrazia in anni passati che già ci permetterebbe di recuperare un pelino di credibilità ma la credibilità la si recupera anche nel momento in cui discuti di quelli che sono i problemi della città allora se il problema della casa non è un problema della città va bene abbiamo fatto flop stasera ma se ma se la casa è un problema della città è stato detto che è un problema nazionale non è che è sesto in Svizzera cioè io ritengo che sia a discutere certo se no discuteremmo solo dei problemi dove ci sono i comitati organizzati perché l'unica presenza è garantita dai comitati organizzati si discute dei problemi della città questo è uno dei problemi ho già mi sono già bruciato due minuti va bene niente devo solo correggere il nome del signore architetto Mario Schickenbauer perché non vorrei che qualcuno si offendesse è un italiano tra l'altro che aveva fatto questa roba qui quindi chiedo scusa della inesattezza non abbiamo nessun alloggio vuoto è stato detto non abbiamo nessun alloggio vuoto non abbiamo nessuna occupazione di edifici pubblici di edifici di case pubbliche ma questo perché fin da da tempo in memore abbiamo attivato una serie di controlli per evitare proprio l'occupazione abusiva prima perché toglie un diritto a chi commette questo fatto perché non ha più titolo per entrare in graduatoria ma secondo perché abbiamo questa grande preoccupazione di tenere salvaguardato il patrimonio che è pubblico non mio ma che è di tutti è vero è un tema molto delicato questo tema il tema della casa quindi avremo occasione in commissione magari anche l'organismo più adatto per entrare nel merito però è un argomento molto molto difficile io non ho la soluzione non ho la soluzione perché quando ho detto che la casa pubblica deve essere un diritto da garantire a chi è in una situazione di disagio temporaneo bisogna anche pensare che se io caccio quelli che hanno un reddito un pelino più elevato riduco anche gli introiti del comune perché ho sempre i bisognosi per antonomasia quindi o si fa una politica nazionale che non è mai più stata fatta forse l'ultimo piano fanfani le case fanfani famose o c'è un piano nazionale che prende a cuore questo tema estanzia soldi estanzia iniziativa a favore della regione se no la sostenibilità poi della gestione delle case comunali è veramente è veramente un tema molto delicato cosa dire molte modifiche saranno possibili ma saranno possibili nel momento in cui andiamo anche a modificare il PGT se il PGT è in scadenza poi non so quando lo andremo a discutere comunque a breve lo andremo a discutere certo è da rivedere ma anche nel nostro PGT tra l'altro da un'analisi puntuale effettuata non risultano neanche stanziamenti in termini di immobili per edilizia a canone sociale c'è un titolo che si chiama ERS edilizia residenziale sociale ma poi è declinato tutto con canone moderato concordato e convenzionato quindi è logico che se metteremo mano al PGT metteremo mano anche a questo capitolo che non prevede il canone sociale ripeto sarebbero molte le cose no ecco l'unica cosa che volevo che volevo evidenziare perché mi è sembrata una inesattezza mi pare che è un intervento di Tremolada diceva che bisognerebbe garantire la certezza del rendere poi l'immobile a chi si candida per offrirlo ma se voi guardate nel portale che c'è ci sono un paio di link di icone in pdf c'è un regolamento dove addirittura se il proprietario richiede indietro la casa perché il figlio si sposa perché sono elencati i motivi riprendiamo in esame la pratica da questo punto di vista è previsto l'intervento cosa volete che vi dica che la casa sia un diritto l'avete detto in tanti e io sono il primo a crederci che lo sfitto sia un delitto io sono altrettanto convinto che soprattutto in presenza di un'emergenza come l'attuale sia un delitto ma noi stiamo lavorando proprio per non andare né a occupare ulteriormente il suolo pubblico perché con l'iniziativa il comune cerca casa andiamo a prenderci se è possibile lo sfitto del privato se lo andiamo a prendere in termini regolari noi naturalmente da amministratori siamo chiamati a rispondere alla legge quindi andiamo ad occupare le case quando la proprietà ci riconosce questo diritto di occuparla la casa non lo facciamo se la proprietà non lo riconosce sull'occupazione io non so dire altro tranne che il comune non ha speso un euro non ha speso nulla né per togliere né per sistemare le persone le persone che certo non siamo entrati assolutamente in merito perché lì si tratta di un'occupazione di un diritto di una casa privata di un edificio privato e quindi non abbiamo messo nessuna voce in campo grazie grazie a tutti comunque del dibattito chiedo scusa questo senz'altro grazie grazie all'assessore Cagliani per la sua relazione molto esaustiva stasera grazie ancora adesso trattiamo i due ordini dei giorni che forse ne diventerà uno dovrebbe essere a conclusione comunque se lei vuole fare prego prego io volevo solo dire che mi colpisce sempre da parte della maggioranza l'incapacità di contrastare senza l'offesa personale cioè se io dico che un consiglio comunale è inutile non sto offendendo nessuno ma se lei dice che io mi comporto con rozzezza lei sta offendendo me la differenza è solo questo lei può dire che il mio intervento è inutile è superfluo e fin qui ci siamo perché siamo sui contenuti ma lei invece attacca solo la persona questo è sbagliato e questo è molto offensivo perché se mi permette qui non siamo davvero nel massimo della raffinatezza e non mi pare assolutamente di essere tra quelli che più possono meritarsi l'accusa e che comunque lei non deve fare e di cui le chiederai le scuse perché una cosa è dire che il mio intervento è inutile o sbagliato una cosa è dire che la mia rozzezza questo è un attacco alla persona che lei non si può permettere e per il quale meriterebbe una querela per diffamazione è chiaro perché qui bisogna imparare che le persone non si offendono invece noi noi interveniamo magari sbagliamo per carità nessuno dice di essere perfetto però io qui non sento mai attacchi a singoli consiglieri nella loro persona invece di lì li alzate e ci fate sempre la lezione su come i nostri comportamenti sono sbagliati chiariamo qui nessuno né da questa parte nei vostri confronti né da quella parte ai nostri confronti ha minimamente il diritto di censurare i comportamenti non spetta a voi come non spetta a noi quindi veramente un comportamento vergognoso questo qua un atteggiamento ma certo ma cosa devo rispondere a uno che mi accusa per la mia rozzezza cosa devo dirle grazie della lezione consigliere rivolta che potesia verrò a lezione di bontond a lei nella sua nel suo capannone non lo so facciamo così ho bisogno delle sue lezioni di buona educazione non ho capito veramente lei non si rende conto di come ah sì davvero io credo invece che noi che noi che noi siamo vittime di continui attacchi personali perché quando voi non sapete cosa dire quando voi non sapete cosa dire purtroppo succede molto spesso perché è vero che l'Aler ha un grosso buco però non parliamo di chi ha fatto i buchi perché qui siamo qui a riparare i buchi delle farmacie e fra poco ripareremo i buchi del core quindi facciamo a chi ha amministrato peggio consigliere Landucci stiamo sul pezzo stiamo sul fatto personale per cortesia in questo caso quando voi non avete niente da dire voi attaccate sempre le persone con un comportamento leninista che è veramente vergognoso e lei quando non ha niente da dire è in difficoltà ed è in difficoltà ed è in difficoltà lei allora attacca le persone a testa bassa attacca le persone consigliere Anducci anche il consigliere Rivolta chiederà la parola per fatto personale cerchiamo di concludere certo ma dopo la richiederò anch'io lo faremo fino alla fine del mondo è chiaro grazie consigliere Rivolta non era un invito il mio non era un invito può anche non intervenire però mi raccomando non facciamo forza scusi perché va bene tutto chiarissimo il tuo concetto prego in queste ultime settimane ci è stato dato del complice dei fascisti ci è stato detto che questo consiglio comunale è una manfrina è stato detto stasera è un'offesa a tutto il consiglio comunale io non ero in difficoltà io ribadisco quello che penso non ho problemi di fronte agli sfrati di fronte ai problemi delle persone che vengono lasciate a casa per strada lei viene a dire che questa è una manfrina e tanto è vero che l'ordine del giorno sul seguente l'ha firmato anche lei e partecipa alla manfrina quindi per cortesia eviti proprio eviti lasci perdere guardi lasci perdere lasci perdere lasci perdere perché è giusto che quando c'è il buco delle farmacie si parla del buco delle farmacie ma se c'è il buco di Haller parliamo del buco di Haller e lei non può offendersi perché noi parliamo del buco di Haller non può fare questa sceneggiata grazie ma lasci perdere ma mi ha dato del complice di un criminale lei una sera ha detto che io sono complice di un criminale lei lei quando abbiamo discusso del carrile l'altra settimana noi siamo stati detto che siamo complici allora adesso volete darci i tuppi io ho detto che il suo intento era rosso è stato molto chiaro lo ribadisco non ho problemi lo ribadisco ma non ho problemi grazie ma non ho problemi trattiamo grazie trattiamo l'ordine del giorno quindi la parola alla consigliera Antonioli consigliere Nossa ci può illustrare la modifica che avete fatto? sì grazie vuole solo la modifica o l'ordine del giorno per rinforzo? allora l'ordine del giorno è praticamente l'ordine del giorno firmato da tutti i gruppi consigliari quindi era l'auspicio che l'assessore all'inizio faceva di raccogliere input e di finire con proposte se possibile il più comune possibile il che mi sembra che al di là di qualche battuta che considero battuta finale sia sicuramente un consiglio positivo soprattutto anche nella finalità del risultato lo leggo così rimane agli atti e è implicito nella mia lettura che gli ultimi due paragrafi che leggo gli ultimi due step sono stati aggiunti da un ordine del giorno quindi è un mix tra due ordini del giorno uno precedente e due step che sono stati inseriti sotto per come dire renderlo diciamo appetibile passatemi il termine tutto il consiglio comunale quindi essere di proposta alla giunta in futuro allora la nostra città con l'acquirsi della crisi economica e sociale sta vivendo un'emergenza abitativa che la comuna e altri comuni definiti attenzione abitativa a noi confinanti le politiche abitative nell'eccezione più ampia del termine sono seconde solo al lavoro nella scala dei valori per la vita di milioni di cittadini le difficoltà economiche nell'avere o nel mantenere un alloggio sono diventate condizioni di bisogni inedite mettendo in difficoltà molti nostri concittadini la perdita dell'alloggio è un tema angosciante e centrale di fatto fenomeno destabilizzante che rischia di minare i concetti stessi di civiltà e coesione sociale l'articolo 25 della dichiarazione universitaria dei diritti dell'uomo adottata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 10 dicembre 48 dice ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantirne la salute il benessere proprio della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario all'abitazione e alle cure mediche e servizi sociali necessari da diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione malattie invalidità vedovanza vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà visto che nell'anno 2013 la nostra città sono state aperte 150 procedure di sfratto 50 delle quali per pignoramento immobiliare quasi tutte a carico di nuclei familiari con all'interno minori anziani e disabili le ampie diverse risposte che l'amministrazione ha messo in atto tra cui locare sublocazioni alloggi aleri in stato di fatto residenza temporanea casa albergo risultano insufficienti a coprire le domande di alloggi necessarie nella nostra città sul tavolo metropolitano esiste una nostra richiesta fatta alla quinta commissione regionale di istituire un tavolo allargato a tutti i comuni di alta tensione abitativa sul tema emergenza abitativa occorre rinforzare il piano strategico del comune per affrontare in maniera strutturale e programmatica la questione della precarietà abitativa il consiglio comunale a questo punto impegna la giunta a invitare il prefetto ad attuare una graduazione degli sfratti come scritto nella legge 124 del 20 ottobre 2013 articolo 6.5 dell'ultimo comune visto il particolare momento di difficoltà sostenere l'iniziativa del lanci sulle politiche abitative che rivendica come priorità imprescindibili e precediziali il sostegno all'offerta abitativa sociale il sostegno alla domanda abitative al sistema di edilizia residenziale pubblica ed in particolare alla risoluzione dell'emergenza sfratti per morosità incolpevole sia in una prima fase attraverso la proroga di un anno degli sfratti per tale tipo di morosità sia attraverso il rifinanziamento regionale del fondo per il sostegno all'allocazione attivare urgentemente un tavolo sociale metropolitano relativo alle politiche abitative e per il riutilizzo degli edifici dismessi il tavolo sarà la sede e lo strumento della concertazione locale tra le amministrazioni le forze sociali ed è volontariato forze imprenditoriali e istituti di credito dei comuni aderenti il tavolo dovrà percorrere tutte le ipotesi per il rilancio dell'edilizia abitativa pubblica al fine di realizzare la massima ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili sollecitare la riforma della legge regionale 27 che norma l'accesso e la permanenza negli alloggi pubblici adesso leggo i due step che sono stati aggiunti per fare un ordine del giorno unico impegna sempre la giunta a verificare la permanenza dei criteri di assegnazione delle case popolari ai soggetti assegnatari a seguito della suddetta verifica ad adottare ogni mezzo idoneo per riassegnare le case popolari a coloro che versano in situazione di effettivo bisogno grazie grazie a consigliere Nossa su quest'ordine del giorno visto che è stata firmata da tutti credo che non ci sono interventi quindi mettiamo in votazione l'integrazione che i due ordini del giorno è diventato uno integrato quindi mettiamo in votazione l'unico ordine del giorno inizia votazione prego chiusa votazione consiglieri presenti 20 contrari nessuno astenuti nessuno favorevoli 20 il consiglio approva il sindaco era distratto non l'ha votata fa una dichiarazione di voto prego scusate ovviamente sono favorevole grazie favorevole quindi consiglieri 21 presenti al voto favorevoli 21 il consiglio approva all'unanimità grazie grazie ci vediamo i 16 buonanotte a tutti la stituta è tolta grazie 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 grazie